teodoro secondo l'accordo di ieri o socrate veniamo direttamente belli e presenti e portiamo con noi questo forestiero di stirpe di elea compagno di quelli del seguito di parmenide e di zenone uomo versato particolarmente in filosofia socrate forse senza che tu te ne sia accorto non un ospite tu porti ma un dio secondo il detto di omero il quale dice che con gli altri dei quanti assieme agli uomini hanno parte del giusto rispetto te soprattutto il dio degli ospiti che ci accompagna per osservare la prepotenza insieme la rettitudine degli uomini probabilmente uno di questi esseri superiori potrebbe anche essere al tuo seguito per osservare muovere delle critiche a noi che siamo così da poco nei ragionamenti essendo egli un dio adatto alla verifica teodoro no non è questo socrate il costume del forestiero egli è assai più moderato di quelli che si affannano per le contese e a me non sembra assolutamente che gli sia un dio ma divino sì perché io denomino così tutti i filosofi socrate è giustamente amico ma distinguere questa razza non mi sembra che sia cosa più facile da riconoscere quella divina uomini di tale sorta infatti prendendo sembianze svadiate per l'ignoranza degli altri si aggirano per le città essi che non sono filosofi in maniera fittizia ma reale osservando dall'alto le bassezze di questa vita ad alcuni sembrano essere meritevoli di nulla ad altri invece degni di ogni onore e talvolta assumono la veste di politici tal'altra di sofisti e accade pure talvolta che diano l'impressione di trovarsi immersi del tutto nella condizione dei pazzi dal nostro ospite ora mi sarebbe gradito venire a conoscere se a lui è caro come valutano e chiamano questo quelli che stanno nella sua zona e questo chi è il sofista il politico il filosofo ma cosa particolarmente hai pensato di chiedere e su quale problema nutri dubbi al loro proposito questo se considerano tutto questo una sola cosa o due o tre come sono i nomi e se distinguendo tre generi hanno attribuito a ciascuno un nome secondo genere ma io penso non avrà nessuna difficoltà a illustrarcelo oppure cosa ne diciamo ospite e così teodoro nessuna difficoltà e neppure cosa difficile dire che hanno considerato tre generi delimitare poi con chiarezza cosa sono uno a uno non è cosa da poco né facile si dà anche il caso socrate che tu abbia imbroccato dei discorsi piuttosto simili a quelli che noi ci trovavamo a chiedergli prima di venire qua e le stesse questioni che ora mette innanzi a te prima le metteva innanzi a noi da che dice di averne udito a sufficienza e di non essersene scordato dunque l'ospite non giungere qui a rifiutare la prima grazia che noi ti chiediamo ma intanto rispondi a questo ti è più caro l'abitudine di esporre da te con un lungo discorso parlando di quello che vuoi dimostrare oppure per mezzo di domanda come un tempo io ero presso permenide che ragionava e dissertava di bellissimi discorsi quando io ero giovane e lui ormai molto vecchio con uno socrate che dialoga senza fatica e compazienza è più facile così il discorso con un altro in caso contrario è meglio dialogare da solo ti è dato dai presenti di scegliere quello che vorrai tutti infatti ti ascolteranno volentieri ma se tu vuoi avermi consigliere sceglierai uno dei giovani dei teto qui presente oppure anche altri se qualcuno ti viene in mente socrate mi trattiene un certo pudore essendo giunto io qui da voi per la prima volta a non fare questo scambio di opinioni un po per volta a botta e risposta ma estendendolo protrarre un lungo discorso o da solo con un altro a guisa di dimostrazione in realtà quel che è stato detto ora non si dovrebbe pensare che sia così come quel che è stato chiesto comporta ma si trova ad aver bisogno di un discorso assai lungo ma il non fare cose gradite a te e ai presenti tanto più che tu hai parlato in questo modo a me pare contrario ogni senso di ospitalità e alquanto rozzo accetto dunque volentieri che te eteto sia il mio interlocutore sia per quanto io ho detto in precedenza che per quello che tu ora mi raccomandi te eteto fa dunque così ospite come socrate ha detto e riuscirai gradito a tutti quanti ospite è assai probabile che a questo non ci sia niente altro da aggiungere dopo di questo mi pare che il discorso debba avvenire con te e se male sopporterai di essere affaticato per la lunghezza non dare colpa a me di queste cose ma a questi tuoi compagni te eteto ma non penso che mi stancherò così presto ma se questo dovesse accadere ricorreremo a socrate mio coetaneo e mio compagno in palestra per il quale non è fuor d'abitudine prendere parte con me a molte delle mie fatiche ospite dici bene ma su questo deciderai per conto tuo mentre il discorso procede ora insieme a me devi esaminare secondo il mio parere cominciando anzitutto dal sofista cercando e rendendo chiaro con un ragionamento che cosa è mai da che ora io e tu a suo proposito abbiamo in comune solo il nome ma quanto al compito specifico per cui lo chiamiamo così forse l'uno e l'altro non potremmo avere di per noi stessi un punto di vista particolare ora su ogni questione bisogna concordare sul fatto stesso mediante ragionamenti più che sul solo nome senza il ragionamento e la razza che ora noi pensiamo di cercare non è la più facile fra tutte da comprendere che cosa sia il sofista ma per tutte le grandi questioni sulle quali occorre ben faticare sembra a fatti e a tempo che da prima ci si debba occupare delle piccole e delle facili prima di riscontrare in esse le più grandi ora dunque o teteto prendo questa decisione anche per noi perché riteniamo che sia difficile e di ardua riuscita a scoprire il genere del sofista di volgere prima il metodo dello stesso problema in una dimensione più facile a meno che tu non abbia da suggerire un'altra via più agevole teteto ma io non ne ho vuoi tu allora che cominciamo da un punto di poco conto per tentare di fare un modello per un tema più grande sì e cosa potremmo porre innanzi di ben riconoscibile e semplice che non abbia una sua logica non inferiore a quella di nessuna delle questioni più grandi come il pescatore non è ben riconoscibile da tutti e senza richiedere un grande impegno è così ospite confido che questo metodo e questa discussione non sia per noi sconveniente allo scopo che vogliamo proporci teteto sarebbe bello forso dunque cominciamo da questo punto vogliamo supporre che sia un artefice oppure uno senza arte ma che possiede tuttavia un'altra capacità che sia senza arte non è minimamente possibile ma di tutte le arti all'incirca gli aspetti sono due come l'agricoltura e quanto riguarda la cura del corpo mortale poi ciò che riguarda l'orditura e quel che è plasmato che noi chiamiamo bagaglio e infine la mimetica tutte cose queste che si potrebbero giustamente chiamare con un nome falso come e con quale nome tutto quello che prima non era e che poi uno conduce all'essere diciamo fare colui che conduce ed essere fatto ciò che è condotto giustamente bene tutte le arti che ora noi abbiamo elencato hanno una loro forza a questo scopo ce l'hanno sì dunque riassumendole tutte insieme le chiamiamo capacità di creare sta bene dopo di questo c'è poi l'aspetto intero relativo all'apprendimento e quello che riguarda la conoscenza l'arricchimento la lotta la cazza perché nessuno di questi fattori lavora direttamente ma con fatti e ragionamenti cerca di impadronirsi di ciò che è ed è stato fatto ma è di ostacolo anche a chi tenta di impadronirsene ma attraverso tutte queste parti ben si intravede un'arte che può essere definita arte dell'acquistare si può anche convenire ora fra tutte le arti che esistono quali quella dell'acquistare quella di creare l'una è quella dello scambio tra persone consenzienti e altre pure consenzienti mediante doni ricompense compravendite quel che resta invece è tutto l'impossessarsi con fatti e con parole e può chiamarsi arte del sequestrare ebbene quest'arte del sequestrare non può essere divisa in due parti come ponendo come lotta tutta quella parte di essa che avviene in maniera manifesta e come caccia quella che invece si svolge di nascosto sì ma il non dividere quella della caccia in due parti ancora è una cosa illogica di pure come dividendo l'uno del genere inanimato l'altra invece del genere animato e perché no se è davvero che esistono tutti e due e come potrebbe non esserci ma occorre che noi lasciamo perdere il genere di quelle non animate che è anonimo fatta eccezione per alcune quali quella del palombaro e alcuni altri piccoli rami un presso a poco simili e l'altra invece che è la caccia di esseri dotati di vita chiamarla caccia di esseri viventi sia pure così ma anche di questa caccia di esseri viventi si potrebbe enunciare a ragione un duplice aspetto l'uno del genere di chi va a piedi distinta anche queste in varie specie e con vari nomi e quindi caccia di animali terrestri l'altra invece della schiatta atta al moto e può definirsi in complesso caccia acquatica ma bene ma del genere nuotante noi vediamo una specie alata e l'altra acquatica come no e la caccia del genere alato noi la chiamiamo in generale caccia agli uccelli infatti si dice così e complessivamente quella acquatica la chiamiamo pesca sì ebbene questa specie di caccia noi la divideremo a sua volta in due grandissime branche e secondo quali criteri a secondo che questa caccia faccia in modo che l'avvolgimento di quel che si pesca avvenga da sé o con un colpo come dici e in quel modo distingui l'uno dall'altro l'uno tutto quello che avvolgendo qualcosa lo trattiene per impedimento è giusto chiamarlo laccio molto bene nasse reti lacci ceste e altri simili oggetti quale altro nome possono avere se non avvolgimenti nessuno e questo genere di caccia noi lo chiameremo avvolgente o qualcosa di simile sì ma quello che avviene con gli uncini con i tridenti mediante un colpo ed è cosa diversa da questa occorre che noi con una sola parola lo chiamiamo caccia percussoria oppure c'è qualcuno che può chiamarla in maniera migliore non curiamoci del nome questo basta ma di questa caccia percussoria quella che avviene di notte con la luce della fiamma è stata chiamata credo proprio da quelli che la fanno caccia alla luce delle torce certamente ma quella effettuata di giorno dato che i tridenti sulla sommita hanno degli ami si chiamerà pesca con l'amo infatti si chiama così ma della pesca percussoria che si effettua dall'alto in basso per il fatto che soprattutto in quel tal senso vengono usati i tridenti viene chiamata pesca con il tridente alcuni la chiamano proprio così tutto il resto è per così dire ancora un solo aspetto quale la pesca invece che viene effettuata con un colpo in senso contrario a quella effettuata con l'amo e che non coglie nel corpo i pesci là dove capita come con i tridenti ma che colpisce ogni volta la testa e la bocca del pesce calappiato dal basso in alto e lo tracina in su con delle bacchette o delle canne non diremo teteto che occorre attribuirle un qualche nome ritengo che quello che poco fa ci eravamo posti innanzi ora l'abbiamo portato a compimento ora sulla pesca effettuata con l'amo tu ed io abbiamo concordato non soltanto il nome ma ne abbiamo colto sufficientemente anche la ragione e il compito in sé di tutta l'arte in generale per metà una parte era arte di acquistare e la metà di questa è arte di impossessarsi e di questa poi metà è arte della caccia e parte della caccia è dare la caccia schiatte viventi e la metà di questa è la caccia delle specie acquatiche e quella della caccia di tutte le specie acquatiche la parte più in basso è tutta la pesca una metà di questa è percussoria poi metà della percussoria è la pesca ad amo di questa poi quella che si esegue mediante un colpo tirato dal basso in alto dalla stessa azione traendo un nome simile viene detta pesca sbalzi che è poi la pesca alla lenza che ora viene ricercata teteto tutto questo è stato assolutamente chiarito a sufficienza pur su dunque secondo questo esempio mettiamoci a cercare ora che cosa è il sofista proprio così e il primo punto della ricerca era questo se si dovesse supporre che il pescatore fosse uno non tanto pratico o possedesse invece una qualche arte sì e ora teteto supporremmo che questi il sofista sia un inesperto o veramente del tutto addentro nella propria arte niente affatto inesperto comprendo bene quello che dici chi ha un nome simile non deve essere affatto tale dovremmo supporre allora che gli possiede una qualche arte come pare e quest'arte poi qual è ma per gli dei non abbiamo riconosciuto che quest'uomo è stretto congiunto dell'uomo chi di quale il pescatore con il sofista a me sembra che tutti e due siano cacciatori di quale caccia l'uno dei due dell'altro infatti abbiamo già detto poco fa abbiamo diviso tutta la caccia in due parti quella del genere nuotante e quella del genere che va a piedi sì e l'uno l'abbiamo percorso in dettaglio per quanto riguarda la specie dei nuotanti abbiamo lasciato invece in divisa la caccia del genere che va a piedi dicendo che è di svariati aspetti certo fino a qui dunque il sofista e il pescatore vanno di pari passo traendo origine dalla stessa arte che è quella di acquistare così almeno sembra ma divergono nella caccia delle schiatte viventi perché l'uno va a caccia nel mare nei fiumi nelle paludi per gli esseri viventi che si trovano in quei luoghi ebbene l'altro invece va per terra per fiumi diversi o per certi luoghi alla stregua di prati ricolmi di ricchezza e di gioventù per catturare le razze che si trovano in questi luoghi come dici della caccia per terra esistono due grandissimi gruppi e quali l'uno e l'altro l'uno degli animali domestici l'altro degli animali selvaggi vi è dunque una caccia degli animali domestici seppure l'uomo è un animale domestico mettila come ti pare sia supponendo che non c'è alcun animale domestico sia che ce n'è qualcun altro sì ma che non c'è nessuna caccia all'uomo quale fra queste ipotesi tu ritieni ti sia gradito annunciare trazzane pure un profilo per noi ma io penso ospite che l'uomo è un animale domestico e sostengo che esiste la caccia all'uomo diciamo pure che è duplice anche la caccia agli animali domestici secondo che cosa possiamo dirlo pirateria assoggettamento di schiavi tirannide e tutte le malefatte della guerra tutte in una le definiamo caccia violenta bene mentre all'erroquenza giudiziaria e a quella pubblica e a quella della conversione tutte in una sola attribuiamo complessivamente il nome di arte della persuasione giusto anche dell'arte della persuasione diciamo che i generi sono due quali l'uomo che si svolge in pubblico l'altro in privato sia pure che ciascuno di essi ha un proprio aspetto ma anche nella caccia privata viene una che pretende una ricompensa e un'altra invece che porta donativi non comprendo tu come bene evidente non hai ancora rivolto la mente alla caccia degli amanti a proposito di che perché essi portano a quelli che costituiscono l'oggetto della caccia è verissimo quel che dici questo dunque sia un aspetto dell'arte amatoria certamente ma della caccia che pretende la ricompensa la parte che sostiene la relazione con favori che trae lusinga solo attraverso il piacere e fa della ricompensa il solo nutrimento capace di appagarla tutti potremmo chiamarla arte che dà piacevolezza come no ma quella che proclama di organizzare i gruppi a scopo di virtù riportando però come ricompensa del denaro questo genere particolare non esige di essere chiamato con un altro nome come no e con quale prova a dirlo ma è chiaro a me pare che abbiamo scoperto che cosa sia il sofista avendogli io attribuito questo nome penso di chiamarlo come si deve secondo questo ragionamento dunque o da eteto come pare nell'arte di procacciarsi del sequestrare dell'impossessarsi in quella della caccia della caccia agli animali in quella gli animali di terra in quella gli animali domestici nella caccia agli uomini in quella della persuasione in quella privata in quella che si fa per avere ricompensa in quella del cambio a valute in quella che vuol parere di educare in quella di giovani ricchi e bene in vista avviene una caccia che come il ragionamento d'ora fa necessariamente risultare occorre chiamare sofistica perfetto ma vediamola anche da questa angolatura quello che viene cercato non fa certo parte di un'arte da poco ma di un'arte ben variopinta e difatti anche nelle considerazioni svolte in precedenza viene offerta un'immagine non di quello che ora noi diciamo ma di un genere diverso in quale modo dell'arte di procacciarsi duplice era l'aspetto l'una parte era relativa alla caccia l'altra invece alla permuta infatti era così di quella della permuta noi indichiamo ancora due aspetti l'uno che si compie con doni l'altro tramite il commercio sia ben detto così e diremo a nostra volta che l'arte che si svolge mediante il commercio si divide in due parti come una che è vendita diretta dei propri prodotti l'altra invece che scambia il lavoro altrui e viene chiamata arte dello scambio certamente ebbene di questa seconda la permuta che avviene in città compressa poco una mezza parte di essa non viene chiamata quella del rivendugliolo sì e lo scambio che si compie da una città all'altra mediante la compravendita non viene chiamato commercio e perché no e del commercio non sappiamo che l'una parte è di quelle cose di cui si nutre e si serve il corpo l'altra di quella invece di cui si alimenta e si sostiene l'anima e avviene lo scambio effettuando vendite attraverso il denaro come dici forse ignoriamo quella che riguarda l'anima dato che l'altra in qualche modo la comprendiamo sì la musica poi tutta quanta noi diciamo venduta talvolta di città in città condotta altrove ancora venduta e l'arte pittorica e quella di fare mirabilia e molti altri prodotti dell'anima portate in giro e messe in vendita alcune a scopo di conforto altre di sollecitudine a chi le porta la smercia può essere giustamente attribuito al nome di commerciante non meno di chi provvede alla vendita di cibi e di bevande è verissimo quello che dici e dunque anche a chi acquista apprendimenti e li scambia di città in città al costo di denaro darai lo stesso nome ma per forza ora di questa che è traffico delle cose riguardanti l'anima una parte non potrebbe essere chiamata a buon diritto arte di ostentazione l'altra invece con un nome ridicolo non meno del precedente siccome vendita di ammaestramenti non sarebbe necessario chiamarla con un nome che in qualche modo sia fratello gemello dell'azione corrispondente ma certamente allora dunque di questa vendita di cognizioni la parte che concerne l'apprendimento delle altre arti va chiamata con un nome quella invece che riguarda l'apprendimento della virtù con un altro come no tra gli altri alla prima potrebbe armonizzarsi il nome di commercio d'arti all'altra tenta tu di suggerire un nome e quale altro nome si potrebbe dire senza sbagliare tranne quello che ora si cercava definendo questo il genere sofistico nessun altro ma via tiriamo avanti ora dicendo questo che parte dell'arte di acquistare di scambiare di vendere al minuto di commerciare di commerciare aspetti dello spirito che riguardano ragionamenti e insegnamenti della virtù questo secondo commercio si manifesta chiaro come arte della sofistica certamente come terzo punto io penso che tu se uno venisse qui in città in parte per crearsi di per se stesso insegnamenti riguardo a queste cose e poi venderle e da questo si proponesse di trarre il vivere non lo chiameresti con un nome diverso da quello che hai detto ora e perché non dovrei poiché è genere che riguarda lo scambio di apprendimenti riguardo a queste cose tu lo chiamerai sempre così almeno pare sofistico per forza occorre infatti tenere dietro al ragionamento consideriamo ancora se il genere che ora è stato sottoposto a ricerca non sia somigliante a qualche altro ma quale per noi parte dell'arte dell'acquistare era costituito dalla lotta si disse proprio così ora è possibile non fuori di maniera dividere la lotta in due branche in quali di pure ponendo di essa una parte inclina al confronto e l'altra al combattimento è così ma a quell'aspetto di essa che riguarda il combattimento che avviene da corpo a corpo è verosimile e conveniente dare un nome quale violenza o pressapoco sì e a quello che avviene tra ragionamento contro ragionamento quale altro nome darai o teteto se non quello di atto del contendere nessuno ma anche l'aspetto del contenzioso va distinto in due parti in che modo perché quantità di discorsi contrastanti sul giusto e l'ingiusto avvengono in pubblico contro altre quantità di discorsi la contesa sarà detta giudiziaria sì quello che nelle contese private viene frantumato in pezzettini fra domande e repliche forse che siamo stati abituati a chiamarlo diversamente da contradditorio niente affatto ma di questo contradditorio quanto sostiene le dispute sulle convenzioni ma vi si impegna a caso e senza criterio occorre porre questo come un aspetto dal momento che il ragionamento lo riconosce come diverso ma non ottenne un nome da quanti ci hanno preceduto e non è meritevole neppure ora di ottenerlo da noi è vero infatti è stato diviso in parti troppo piccole e varie ma quello che si fa con arte e che contende sul giusto e sull'ingiusto e su altri problemi in generale non siamo stati abituati a chiamarlo eristica come no ma dell'eristica una parte è fatta a far spendere denaro un'altra invece a farlo mettere insieme certamente e ora proviamoci a dire con quale nome si debba chiamare l'una e l'altra di queste parti eh già si deve e mi pare che quanto avviene per il piacere della disputa per tali questioni senza cura delle proprie faccende che viene ascoltato circa l'esposizione dalla maggior parte degli ascoltatori senza piacere deve essere chiamato a mio parere con un nome non diverso da chiacchiera difatti si chiama proprio così ma l'arte contraria che è volta dalle liti private a far mettere insieme denaro prova ora a definirla tu da parte tua e come potrebbe chiamarla uno senza timore di sbagliare all'infuori di tornare ora per la quarta volta a colui sul quale verte la nostra ricerca cioè il sofista nient'altro dunque che genere inteso ad accumulare a quanto sembra che sussiste dall'arte eristica da quello del contraddittorio della disputa della lotta del confronto del guadagno è come il ragionamento ha dimostrato il sofista è certamente così osserva dunque come detto bene che questa sia una bestia dai molti colori e quanto è giusto il proverbio che non può essere preso con una sola mano eh già occorre afferrarla con ambe due occorre perciò secondo le nostre possibilità fare questo correndo dietro in qualche modo alle sue orme dimmi certe attività noi le chiamiamo con nomi familiari ce ne sono tante ma tra le tante quali vuoi sapere queste ad esempio quando diciamo filtrare setacciare vagliare separare e bene e oltre queste pettinare filare cardare e una quantità di altri nomi simili che sappiamo trovarsi nelle arti vero quali di essi tu hai inteso mettere in chiaro proponendo questi esempi e facendo domande su tutti tutti i vocaboli che sono stati detti sono divisibili sì a mio parere poiché una sola è l'arte in tutte queste cose insieme riterremo giusto chiamarla con un solo nome e quale possiamo dire arte di distinguere sia pure così osserva se di essa noi possiamo intravedere due aspetti come la chiedi l'esta questa riflessione nelle distinzioni già dette c'era da separare il peggio dal meglio il simile dal simile pare all'incirca così ora che è stato detto dell'una non ho il modo ancora di determinare il nome ma della distinzione che fa restare il meglio e butta via il peggio ce l'ho dillo pure tutta questa distinzione come io penso viene chiamata purificazione così infatti viene chiamata ognuno poi potrebbe osservare che questo genere è duplice forse sì ma a considerarlo con calma io ora non riesco a intravederlo eppure in tanti modi delle purificazioni che riguardano il corpo conviene comprenderli con un nome solo quali modi e con quale nome sono tutte quelle purificazioni che all'interno dei corpi degli esseri viventi vengono compiute dalla tecnica della ginnastica e della medicina svolta in modo corretto e le purificazioni esterne che sono cose proprio da poco a tirsi quante ne offre l'arte dei bagni e nei corpi inanimati quante hanno una loro funzione dell'arte della cosmetica in generale distinta in piccolissimi aspetti ebbero nomi che sembrano perfino ridicoli e lo sono parecchio ma anche del tutto teteto eppure rispetto al criterio di ragionare l'arte di adoperare la spugna e quello di combinare pozioni si trovano a contare né poco né tanto anche se l'una ci giova poco l'altra molto a fare le purificazioni infatti a causa dell'acquistare intelligenza il suo metodo tenta di comprendere l'affinità e la non affinità di tutte le arti e sotto questo aspetto le considera tutte alla pari e per la somiglianza non stima le une più ridicole delle altre e nulla stima più nobile colui che rende palese l'arte della caccia attraverso l'arte bellica che mediante quella di ammazzare i pidocchi ma anche più presuntuoso e ora quello che chiedevi quale nome daremo a tutte le forze quante hanno la funzione di purificare il corpo vivento o inanimato nulla importerà al metodo se il nome che sarà stato scelto potrà sembrare più decoroso solo questo se ne stia al di fuori della purificazione dell'anima a collegare tutte le cose quante ne purifica di altro genere esso invece ha il compito di distinguere la purificazione che riguarda l'intelligenza da tutte le altre se riusciamo a comprendere quello che vuole dimostrare ho compreso certo e ammetto che due sono i tipi della purificazione l'uno è l'aspetto che riguarda l'anima l'altro che riguarda il corpo ed è a parte molto bene ma dopo di questo ascoltami pure e tenta di severare ancora in due parti quello che è stato detto ma in tutto quello che tu ritenga giusto tenterò anch'io di operare i miei tagli non diciamo che la malvagità dell'anima è cosa diversa dalla virtù e come no e la purificazione consisteva nel buttare fuori quello che vi era di poco buono e nel lasciare il resto si trattava proprio di questo e quanto riusciamo a scoprire come una sorta di eliminazione dalla malvagità dall'anima parleremo a tono parlando di purificazione certamente occorre dire che due sono gli aspetti della malvagità riguardo l'anima quali l'una è quale la malattia nel corpo l'altro quale la deformità in esso non ho capito non ritieni tu che la malattia e dissidio siano la stessa cosa nemmeno a questo io ho di che dover rispondere ritieni dunque che il dissidio sia qualcosa d'altro se non la rovina di un'affinità voluta da natura in conseguenza di qualche lacerazione niente d'altro che cos'altro è la bruttezza se non assenza di misura genere deforme che si trova ovunque nient'altro assolutamente e dunque nell'anima di coloro che vivono una condizione vile non sappiamo che dissentono opinione dai desideri la volontà interiore dai piaceri la ragione d'attenzione e altri quali turbamenti tra di loro è in maniera virulenta ma necessariamente tutti sono congeniti per natura come no dunque chiamiamo la malvagità dissidio e malattia dell'anima diremo bene molto bene ebbene quante cose sono partecipi del movimento e pongono una certa meta e tentando di raggiungerla ad ogni slancio ne viene una deviazione e non si raggiunge diremo che questo accade per il giusto rapporto tra una cosa e l'altra o al contrario per la sproporzione è chiaro per la sproporzione ma noi sappiamo che ogni anima ignora una cosa di propria volontà no certamente ignorare e dunque quando l'anima si protende verso la verità quando avviene che l'intelligenza vacilla nient'altro è se non deviazione del giudizio certamente si deve asserire dunque che l'anima è stolta e brutta e senza senso di misura pare due dunque sono le specie di mali insiti in essa come pare l'uno è quello che da molti viene chiamato malvagità ed è nel modo più evidente la sua malattia sì l'altro invece lo chiamiamo ignoranza ma che questa sola nell'anima sia un vizio non vogliono ammetterlo bisogna ammetterlo senza riserva quello che non comprendevo bene poco fa mentre tu parlavi che nell'anima ci sono due generi di vizio la vita la sfrenatezza ingiustizia bisogna considerarle tutte come malattia in noi ma la malattia dell'ignoranza che è molteplice e varia la posta come bruttura ma nel corpo per far fronte a queste due malattie non si sono trovate due arti quali sono queste per la deformità la ginnastica contro la malattia la medicina teteto pare proprio così ora contro la tracotanza l'ingiustizia la viltà l'arte della correzione è per natura fra tutte le arti la più intonata giustizia sta proprio così per dirla secondo l'opinione umana ebbene contro ogni tipo di ignoranza si può forse dire che esiste un'arte più efficace dell'arte di insegnare nessuna orsù di quest'arte dell'insegnamento si deve ammettere che uno solo è il genere o sono parecchi e che due di essi sono importantissimi considera la cosa la considero e a me pare che possiamo venirne a capo in questo modo quale considerando l'ignoranza per vedere se in mezzo di essa c'è una scissione perché se diventa duplice è chiaro che anche l'arte dell'insegnare deve avere necessariamente due parti una contro ciascun aspetto dell'ignoranza stessa ebbene diventa chiaro ciò che ora si va cercando mi pare di vedere ben delimitato un grave e duro aspetto dell'ignoranza di peso uguale a tutte le parti di essa quale il credere di sapere pur non sapendo c'è il rischio che proprio di lì provenga a tutti tutto quello che noi facciamo fallire con il nostro intelletto è vero e credo che a questo solo aspetto dell'ignoranza si adatti bene il nome di stupidità certamente che dire poi di quella parte dell'arte dell'insegnamento che si questo invece dalle nostre parti si dà il nome di educazione anche fra gli altri greci è chiamata un pressapoco così ma dobbiamo ancora considerare se questo è un tutto indivisibile o ammette qualche distinzione che meriti di avere un nome e dunque bisogna riflettere a me pare che anche questo possa essere scisso in qualche modo secondo quale criterio a me pare che il percorso dell'arte dell'insegnare per via di ragionamenti sia più aspro mentre l'altra parte di essa è più lieve e come chiamare l'una e l'altra di queste due parti una piuttosto antica e connaturata al patrio costume della quale essi si servivano nei confronti dei figli e molti si servono ancora oggi quando li ammoniscono con le cattive o con modi premurosi quando hanno commesso qualche errore e questa nel suo complesso si potrebbe chiamare arte del consigliare è così quanto all'altra poi pare giusta ad alcuni che cercano di darsi ragione di per se stessi ritenere che non esiste ignoranza che sia volontaria e che chi ha la convinzione di essere sapiente non vuole imparare nulla di quelle cose nelle quali si ritiene ben preparato e questo aspetto dell'arte ammonitoria con molta fatica giunga risultati alquanto scarsi e la pensano giustamente per ricettare dunque queste opinioni ricorrono ad un altro modo fanno domande sugli argomenti su cui qualcuno ritiene di dire qualcosa mentre in realtà non dice nulla sottopongono al vaglio poi con facilità le opinioni di quelli che si ingannano e traendole allo stesso punto con i loro ragionamenti le pongono reciprocamente l'una di fronte all'altra e mettendole a confronto dimostrano che sono contrarie tra di loro circa gli stessi argomenti riguardo alle stesse cose e tra di loro e considerando queste cose se la prendono con se stessi diventano più trattabili verso gli altri e in tal modo si sbarazzano di opinioni tronfie e radicate e fra tutte le liberazioni questa è la più piacevole a udirsi e la più sicura per chi la prova e quelli che si purgano in questo modo caro ragazzo la pensano come i medici riguardo ai corpi che pensano che un corpo non possa trarre beneficio dal nutrimento che gli viene dato se non si è espulso prima quello che all'interno c'era di impedimento allo stesso modo riguardo l'anima quelli ritengono che essa non possa trarre giovamento dagli insegnamenti che le vengono impartiti prima che qualcuno contestandola ponga a sua vergogna quel che viene contestato scacciando le opinioni che erano di impedimento al suo apprendere così da mostrarsi pura ed essere convinta di sapere soltanto quello che sa e nulla di più questa è la migliora e la più saggia delle condizioni dell'anima per tutti questi motivi teteto si deve dire da parte nostra che la contestazione è la più grande e la più sicura delle purificazioni e si deve anche ritenere che colui che ne indenne anche se dovesse essere il gran re è un essere impuro al massimo grado ineducato e turpe proprio sotto quegli aspetti in cui conviene che sia purissimo e bellissimo chi si dispone ad essere realmente felice è assolutamente così ebbene quelli che si avvalgono di quest'arte come li chiameremo temo infatti che si debba dire che sono i sofisti e perché temo che accordiamo dono più grande di quel che compete loro eppure quanto si è detto può essere assomigliato a un tale tipo già come il lupo al cane la bestia più feroce è quella più domestica colui che intenda essere ben certo occorre che faccia la guardia soprattutto alle somiglianze è un genere che fa scivolare parecchio ma siano pure così penso infatti che la disputa avverrà non su piccoli termini se staranno in guardia quanto basta questo almeno è verosimile l'arte della purificazione sia dunque parte dell'arte di separare ma dell'arte della purificazione si tenga distinta la parte relativa all'anima e parte di questa sia l'arte di insegnare e parte dell'arte di insegnare sia l'arte di educare dell'arte di educare la confutazione relativa alla vana apparenza di sapere come ha messo in evidenza il nostro discorso attuale non dobbiamo dire nient'altro tranne che la sofistica di nobile stirpe diciamo pure così ma per il fatto che ci è apparso in molti aspetti io sono già perplesso su che cosa mai bisogna dire che sia in realtà il sofista per dire e sostenere la verità è naturale che tu sia perplesso ma dobbiamo pensare che anche lui si trovi in grande perplessità sulla strada in cui ancora potrà svignarsela dal nostro discorso è giusto infatti il proverbio non è facile sfuggire a tutte le prese è soprattutto ora dunque che bisogna balzarvi addosso dici bene prima di tutto fermiamoci come per riprendere fiato e mentre ci riposiamo ursù contiamo insieme fra di noi in quante forme il sofista si è presentato mi sembra infatti che da prima si sia trovato come cacciatore di giovani ricchi sì in secondo luogo come importatore ed esportatore di cognizioni che interessano l'anima certo in terzo luogo non ci si è forse rivelato come un rivenditore al minuto di queste nozioni sì ed in quarto luogo era venditore di nozioni prodotte in proprio ti ricordi con precisione e la quinta forma cercherò di ricordartela io era infatti un atleta nell'arte della lotta fatta con i discorsi che si è riservato l'arte eristica era così infatti la sesta forma infine suscitava perplessità tuttavia abbiamo finito col concedergli che egli è un purificatore dell'anima dalle opinioni che sono di ostacolo all'apprendimento del tutto esatto non comprendi allora che se uno si presenta come possessore di molte scienze ma viene indicato col nome di una sola arte questa apparenza non è sana ma è chiaro che chi si trova in questo rapporto con una determinata arte non può vedere bene quel punto di essa in cui convergono tutte queste nozioni e perciò egli indica chi le possiede con molti nomi invece che con uno solo c'è il rischio che le cose stiano naturalmente proprio in questo modo e allora cerchiamo di non trovarci per pigrizia in questa situazione nella nostra ricerca ma riprendiamo innanzitutto una sola definizione tra quelle espresse sul sofista c'è una cosa infatti che mi è apparsa indicarlo in maniera del tutto adeguata quale abbiamo detto se non erro che egli è esperto nell'arte di contraddire sì e poi non si fa anche maestro di quest'arte agli altri come no allora indaghiamo su che cosa dunque gli uomini di questo tipo affermano di rendere anche gli altri esperti nell'arte del contraddire cominciamo l'indagine da principio nel modo seguente orsù è sulle cose divine che restano tutte nascoste ai più che essi rendono capaci di fare questo questo almeno si dice di loro e poi su tutti gli aspetti manifesti della terra e del cielo e sulle proprietà relative a tali aspetti sicuro ma anche nelle riunioni private quando si parla di qualche problema generale riguardante insieme il divenire l'essere non ci rendiamo conto sia che essi sono abili nel contraddire sia che rendono anche gli altri capaci quanto loro senz'altro e di nuovo non promettono forse di rendere capaci di disputare sulle leggi e su tutti i problemi politici nessuno infatti dialogherebbe per così dire con loro se non facessero queste promesse e senza dubbio per quanto si riferisce a tutte le arti e a ciascuna singolarmente presa quello che bisogna saper obiettare caso per caso allo specialista è di pubblico dominio si può dire ed è offerto per iscritto a chiunque voglia imparare mi pare evidente che tu stia parlando delle opere di protagora sulla lotta e sulle arti sì caro e su molte altre cose ma non ti sembra che la specificità di quest'arte del contraddire sia essenzialmente una certa capacità finalizzata a disputare su tutti gli argomenti secondo quanto appare almeno non esclude quasi nessun argomento ma tu per direi ragazzo lo credi possibile forse infatti voi giovani guardate a questo con vista più acuta no invece con vista più debole a che cosa a quale scopo ti riferisci in modo particolare perché non credo proprio di capire ciò che ora mi chiedi se è possibile che un uomo abbia scienza di tutte le cose allora sì che sarebbe beato straniero il genere umano e dunque come potrebbe uno che non ha di per sé scienza contraddire uno che ce l'ha e dire qualcosa di valido in nessun modo in che cosa consisterebbe dunque questa meraviglia della capacità sofistica in relazione a che cosa sul modo in cui essi sono capaci di ingenerare nei giovani l'opinione di essere proprio loro i più sapienti di tutti su tutto è chiaro infatti che se non apparissero ai giovani e seppur così apparendo non sembrassero affatto mediante il dibattito essere più intelligenti difficilmente è proprio questa tua affermazione uno darebbe loro del denaro volendo diventare loro discepolo difficilmente certo ma ora almeno lo vogliono e come in effetti credo essi sembrano avere competenza scientifica sulle cose sulle quali contraddicono come no ma fanno questo diciamo su tutte le cose sì dunque ai loro discepoli appaiono sapienti in tutto certamente pur non essendolo perché questo si è rivelato impossibile impossibile come no dunque a noi il sofista si è rivelato come uno che possiede su tutte le cose una scienza apparente ma non la verità proprio così e può essere almeno che ciò che ora abbiamo detto sia la cosa più giusta che sia stata detta su di loro prendiamo allora di ciò un esempio più chiaro quale questo e tu cerca di prestarmi attenzione e di rispondere proprio per bene a quale domanda se uno affermasse di non saper parlare né contraddire bensì di saper produrre e fare tutte le cose con una sola arte in che senso intendi tutte le cose ecco che tu cominci col non capire il principio del mio discorso non comprendi infatti come pare l'espressione tutte le cose no infatti intendo dire che tu ed io facciamo parte di tutte le cose e oltre a noi gli altri animali e le piante come dizi se uno dicesse di saper produrre me e te e tutti gli altri esseri ma di che tipo di produzione stai parlando non intendi certo riferirti infatti ad un agricoltore perché lo dici produttore anche di animali lo dico e anche del mare della terra del cielo e degli dei e di tutte le altre cose e appena prodotto una di queste cose subito le vende a poco prezzo stai scherzando e allora non si deve forse considerare uno scherzo quello di chi dice di sapere tutto e di saperlo insegnare ad altri a poco prezzo e in poco tempo senza dubbio conosci una specie di scherzo che richieda maggiore abilità o che produca più piacere che l'arte mimetica per niente hai nominato infatti raccogliendo tutte le cose in unità una specie molto ampia e dirai molto varia dunque di chi si vanta di essere capace di produrre tutte le cose con una sola arte noi sappiamo questo credo che eseguendo con l'arte della pittura e imitazioni che hanno lo stesso nome delle cose reali sarà capace mostrando da lontano i suoi dipinti di far credere ai ragazzini ignali di essere capacissimo di portare di fatto a termine qualunque cosa egli voglia fare come no e allora non dobbiamo forse aspettarci che per i discorsi ci sia un'altra arte in virtù della quale sia possibile incantare con i discorsi attraverso le orecchie quei giovani che sono ancora lontani dalla verità delle cose mostrando loro immagini fatte di parole su tutte le cose in modo da fare sembrare che venga detta la verità e che chi parla sia il più sapiente di tutti in tutto in effetti perché non ci dovrebbe essere un'altra arte di questo tipo dunque teteto non è forse inevitabile che la maggior parte degli ascoltatori di allora quando sia passato un tempo sufficiente per loro e sia avanzata la loro età imbattendosi da vicino nelle cose reali e costretti dall'esperienza vissuta a comprendere chiaramente la realtà cambino le opinioni precedenti in modo che le cose grandi appaiono piccole le cose facili difficili e che tutte le rappresentazioni contenute in quei discorsi vengano a trovarsi capovolte ad opera dei fatti che sopravvengono nelle loro azioni è inevitabile secondo me almeno per quanto posso giudicare alla mia età ma credo di essere anch'io uno di quelli che sono lontani dalla verità pertanto noi tutti quanti siamo qui cercheremo e già cerchiamo di condurtici il più vicino possibile pur senza esperienza vissuta del sofista dunque dimmi questo già da prima era chiaro che è un incantatore essendo imitatore delle cose reali oppure dubitiamo ancora che di tutte le cose sulle quali sembra essere capace di contraddire non si trovi a possedere davvero anche le scienze corrispondenti e come si potrebbe straniero al contrario ormai piuttosto chiaro dalle cose dette che egli è uno di quelli che partecipano del genere del gioco dobbiamo dunque considerarlo come una specie di incantatore e di imitatore come non considerarlo così orsù dunque ormai tocca a noi non lasciar più scappare la fiera in effetti quasi quasi già la teniamo intrappolata in una di quelle reti che sono come strumenti verbali per scopi di questo tipo in modo tale che a questa almeno non sfuggirà più quale il non poter non essere uno degli appartenenti al genere dei facitori di prodigi chi anch'io condivido questa opinione su di lui almeno in questi termini è inteso allora che si divida il più presto l'arte di produrre immagini e discesi in essa se il sofista ci fa subito resistenza lo si afferri secondo quanto prescrive l'editto del re e si consegna e si mostri a lui la nostra preda se invece si immerse in qualche posto tra le parti dell'arte imitativa lo si insegua continuando sempre a dividere la parte che lo accoglie finché non sia catturato in ogni caso né lui né alcun altro genere potrà mai vantarsi di essere sfuggito al metodo di coloro che in questo modo sono capaci di condurre una ricerca nei particolari e in tutto un insieme dici bene dobbiamo fare proprio così seguendo dunque il metodo fin qui usato della divisione a me almeno pare anche ora di vedere chiaramente due specie dell'arte dell'imitazione ma in quale mai delle due si trovi l'idea che stiamo cercando mi sembra di non essere ora in nessun modo capace di comprenderlo ma tu dimmi per prima cosa e suddividele per noi quali sono le due specie di cui parli un'arte che io vedo inclusa in quella è l'arte della raffigurazione questa sia soprattutto quando uno porta a termine l'opera dell'imitazione seguendo le proporzioni del modello in lunghezza larghezza e profondità e dando inoltre a ciascuno dei particolari i colori che ad essi convengono e allora non cercano di farlo tutti quelli che imitano qualcosa no almeno quelli se non erro che modellano o dipingono qualche opera in grande infatti se riproducessero la vera proporzione delle cose belle sappi le parti in alto ci apparirebbero più piccole del dovuto le parti in basso invece più grandi perché le une sono da noi viste da lontano le altre da vicino certamente dunque non è forse vero che gli artisti di oggi lasciando perdere la verità riproducono nelle immagini non le proporzioni reali ma quelle che sembrano essere belle assolutamente non sarà dunque giusto chiamare la prima opera visto che è simile al vero raffigurazione sì e non bisognerà chiamare quella parte dell'arte dell'imitazione che ha questo scopo arte della raffigurazione come dicevamo nel discorso precedente bisognerà chiamarla così e poi ciò che appare solo somigliante al bello per il fatto che lo si guarda da un punto di vista non adeguato se poi uno invece acquista la capacità di vederlo adeguatamente in così grandi dimensioni pur non essendo somigliante a quello a cui pretende di somigliare come lo chiameremo visto che appare ma non è somigliante non lo chiameremo apparenza certo dunque questa parte non è una parte molto vasta sia della pittura sia dell'arte dell'imitazione nel suo complesso come no l'arte che produce apparenza ma non raffigurazioni non possiamo correttamente chiamarla arte dell'apparenza molto correttamente ebbene queste sono le due specie di cui parlavo dell'arte di produrre immagini quella che produce raffigurazioni e quella che produce apparenze giusto quanto a ciò su cui anche allora avevo pensieri contrastanti in quale delle due si dovesse porre il sofista neanche adesso riesco a discernerlo chiaramente ma è davvero un uomo straordinario e difficilissimo da vedere poiché anche ora si è rifugiato in modo abile ed elegante in una specie difficile da esplorare sembra dunque dici di sì perché lo sai oppure è come una corrente poiché sei stato abituato dal nostro discorso che ti ha trascinato a dire subito di sì come ma che scopo dici questo in realtà mio caro ci troviamo nel corso di una ricerca difficile da tutti i punti di vista infatti questo apparire sembrare ma non essere il dire sì qualcosa ma qualcosa di non vero tutto ciò è pieno di difficoltà sempre nel passato e nel presente come infatti si debba parlare per dire e opinare che il falso esiste realmente senza che pronunciando questa affermazione si cada in contraddizione da eteto è assolutamente difficile sapere questo discorso non ha usato supporre che il non ente sia il falso infatti non potrebbe diversamente diventare reale ma è grande per me l'ide ragazzo quando eravamo ragazzi noi contro questa proposizione ci portava prove dall'inizio alla fine implosa in versi infatti questo non potrà mai imporsi che siano le cose che non sono ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero questo dunque ci è attestato da lui e certo più di ogni cosa il discorso stesso opportunamente saggiato lo metterebbe in chiaro esaminiamo dunque per primo proprio questo punto se per te non fa differenza quanto a me decidi come vuoi ma quanto al discorso guarda tu stesso per quale via possa procedere nel migliore dei modi avviati e conduci anche me per questa via bisogna proprio fare così dimmi possiamo usar pronunciare in qualche modo l'espressione l'assolutamente non ente come no non per contesa né per scherzo ma seriamente se uno dei nostri ascoltatori dovesse meditare rispondere a che cosa si debba riferire questo nome il non ente per che cosa e per che tipo di cosa crediamo che egli lo userebbe e che cosa indicherebbe a chi gli fa la domanda pone una questione difficile e per uno come me direi quasi impossibile da risolvere ma almeno questo è chiaro il non ente non deve essere attribuito a qualcuno degli enti come potrebbe infatti dunque se non può essere riferito correttamente all'ente non si può neppure riferirlo al qualcosa come anche questo se non erro ci è chiaro anche il qualcosa ogni volta che lo diciamo di un ente perché è impossibile dire soltanto questa parola come nuda isolata da tutti incidenti non è vero impossibile tu dai tuo senso perché fai questa considerazione che cioè è inevitabile che chi dice qualcosa intenda dire un qualcosa è così infatti certamente dirai che il qualcosa è segno di una cosa il due qualcosa è segno di due cose insieme e alcuni di una pluralità e come no allora come sembra è assolutamente necessario che chi non dice qualcosa non dica niente del tutto assolutamente necessario dunque neppure ciò si deve concedere che uno dica ma non dica niente bensì bisogna affermare che neppure dice chi pretende pronunciare non ente o no ma allora il discorso sarebbe alla fine delle sue difficoltà non dirlo ancora forte infatti mio caro quanto a questo sussiste ancora la più grossa e la prima delle aporie perché riguarda il principio stesso del discorso come dici parla senza indugiare all'ente credo si può unire qualche altro degli enti come no ma al non ente diremo forse che è possibile unire uno degli enti e come certo noi poniamo il numero nel suo insieme tra gli enti sì almeno se mai altro si deve porre come ente ebbene non cercheremo neppure di attribuire al non ente né la moltiplicità né l'unità numerica il nostro tentativo almeno come sembra non sarebbe corretto come sta dicendo il nostro discorso come dunque si potrebbe pronunciare con la bocca o afferrare comunque col pensiero il non enti o il non ente senza numero di tu come quando noi diciamo non enti non cerchiamo forse di connettervi una moltiplicità numerica e di nuovo l'altro canto a non ente non connettiamo la singolarità chiarissimo eppure noi diciamo che non è né giusto né corretto cercare di adattare un ente a un non ente è verissimo quello che dici comprendi dunque che non è corretto né possibile pronunciare dire pensare il non ente in sé ma che esso è impensabile indicibile impronunciabile inesprimibile a parole sì assolutamente allora ho detto il falso poco fa quando affermavo di esporre la poria più grossa a questo proposito mentre ne abbiamo un'altra ancora più grossa da dire quale dunque tu uomo straordinario non capisci proprio dalle cose dette che il non ente mette in difficoltà anche chi lo confuta in modo tale che ogni volta che si cerca di confutarlo si è costretti a dire di lui cose contraddittorie come dici parla in modo ancora più chiaro non è affatto in me che bisogna cercare maggiore chiarezza io infatti pur presupponendo che il non ente non deve partecipare né dell'uno né dei molti poco fa e anche adesso ho detto così uno dico infatti il non ente tu comprendi sono sicuro sì eppure di nuovo anche poco fa dicevo che esso è impronunciabile indicibile non esprimibile a parole mi segui ti seguo come no infatti tentando di attribuirgli l'essere non facevo affermazioni in contraddizione con le precedenti è evidente e poi attribuendogli questo non ne parlavo al singolare sì eppure costruivo il discorso come se mi riferissi a un'unità pur dicendo che il non ente è inesprimibile a parole indicibile e impronunciabile come no ma diciamo almeno che se si vorrà parlare in maniera corretta non bisogna definirlo né come uno né come molteplice anzi non lo si deve nominare affatto perché anche con questa espressione lo verrebbe ad essere designato come una specie di unità senza dubbio allora che cosa si può dire di me infatti già da tempo e anche ora mi si può trovare vinto nella confutazione del non ente di conseguenza come ho detto non cerchiamo di vedere nelle mie parole il modo corretto di parlare del non ente ma ora cerchiamolo nelle tue come dici subvia sei giovane da bravo e coraggio tendi le tue forze più che puoi e sforzati senza attribuire al non essere né unità né molteplicità numeriche di dire correttamente qualcosa su di esso il mio desiderio di provarsi sarebbe ambizioso e insieme assurdo se ci provassi personalmente io che pur vedo te subire simili difficoltà ma se ti sembra opportuno lascia perdere te e me finché non incontriamo qualcuno che sia in grado di farlo fino a questo punto diciamo che il sofista più ingegnosamente di ogni altro si è sprofondato in un luogo inaccessibile è proprio evidente dunque se diremo che egli possiede una determinata arte di produrre apparenze facilmente sulla base di quest'uso dei termini egli capovolgendoli rivolgerà i nostri discorsi nel senso contrario ogni volta che lo chiamiamo produttore di immagini ci chiederà che cosa intendiamo propriamente con immagine bisogna dunque esaminare teteto che cosa si dovrà rispondere al giovanotto per controbattere la domanda è chiaro che diremo le immagini nelle acque negli specchi e inoltre quelle dipinte o scolpite e tutte quante le altre che sono di questo tipo è evidente teteto che non hai mai visto un sofista perché ti sembrerà che abbia gli occhi chiusi o che non abbia occhi affatto come quando gli dirai questa risposta e gli parlerà di qualcosa negli specchi o negli oggetti modellati riderà delle tue parole quando tu gli parli come ad uno che ci vede e fingendo di non conoscere né specchi né acque e nemmeno la vista stessa interrogerà te soltanto in base ai tuoi discorsi e cioè ti interrogerà su ciò che attraversa tutte queste cose che tu hai detto numerose e che hai ritenuto opportuno designare pronunciando la parola immagine con un solo nome per tutte come se fossero una cosa sola parla dunque e difenditi senza arretrare di fronte a costui che cosa straniero potremmo dire che sia un'immagine se non l'oggetto fatto a somiglianza di quello vero diverso ma simile ma con diverso ma simile intendi dire un oggetto vero oppure a che cosa riferisci la parola simile per niente un oggetto vero bensì uno somigliante e intendi dire che quello vero esiste realmente sì e poi quello non vero è il contrario di quello vero certo dunque tu dici che il somigliante non è realmente dal momento almeno che lo dici non vero eppure in qualche modo è ma non veramente dici no infatti tuttavia almeno come raffigurazione realmente è dunque quello che chiamiamo raffigurazione è realmente pur non essendo realmente c'è il rischio che l'ente si intrecci con il non ente in un intreccio di questo tipo molto strano strano infatti come no vedi dunque che ora a causa di questo intreccio il sofista dalle molte teste ci ha costretti a riconoscere pur senza volerlo che il non ente in qualche modo è lo vedo ebbene anche e allora come potremo definire la sua determinata arte e rimanere coerenti con noi stessi in che senso che cosa temi per parlare così quando affermeremo che per quella sua apparenza egli inganna e che la sua arte è un'arte dell'inganno in quel momento affermeremo che la nostra anima opina il falso per effetto della sua arte o cosa mai diremo questo che cos'altro potremmo dire e di nuovo l'opinione falsa sarà un opinare le cose opposte agli enti o come così il contrario intendi dire dunque che l'opinione falsa è un opinare i non enti necessariamente ed essa opina che i non enti non sono oppure che gli assolutamente non enti in qualche modo sono bisogna che i non enti in qualche modo siano se qualche volta ci si sbaglia in qualcosa anche di poco e poi non si opina anche che non siano affatto gli enti in senso assoluto sì e anche questo è falso anche questo anche un discorso credo sarà giudicato falso in questo modo per gli stessi motivi quando dice che gli enti non sono e che i non enti sono in quale altro modo un discorso potrebbe diventare falso e nessun altro mi pare ma il sofista lo negherà oppure c'è un qualche artificio per far sì che un uomo sano di mente lo conceda quando le ammissioni fatte prima vengono accostate a queste fatte ora comprendiamo te eteto quello che il sofista ci dice come non comprendere infatti che gli affermerà che noi facciamo affermazioni opposte a quelle di poco fa e che osiamo dire che il falso è nelle opinioni e nei discorsi e che noi infatti siamo spesso costretti a connettere l'ente con il non ente mentre poco fa eravamo d'accordo nel riconoscere che questa è la cosa più impossibile di tutte ti ricordi con precisione ma guarda che cosa bisogna fare riguardo al sofista tu vedi infatti quanto facili e numerose siano le obiezioni e le aporie se continuiamo a cercarlo ponendolo nell'arte dei mistificatori e degli incantatori lo vedo bene eppure ne abbiamo passate in rassegna solo una piccola parte mentre sono per così dire infinite sarà impossibile pare catturare il sofista se le cose stanno così come siamo diventati così deboli ora che ci ritireremo quanto a me dico che non dobbiamo se saremo capaci in qualche modo di mettere le mani addosso a costui anche per poco avrai dunque pazienza e come ora dicevi ti accontenterai se in qualche modo anche per poco riusciremo a tirarci fuori da un discorso così forte come potrò non avere pazienza di questo allora ti prego ancora di più di che cosa di non ritenere che io sia diventato una specie di parricida perché per difenderci per noi sarà necessario sottoporre a prova il discorso del nostro padre parmenide e forzare il non ente sotto un certo rispetto ad essere e lente a sua volta sotto un certo rispetto a non essere evidentemente questo è il punto su cui dovremo dar battaglia nei nostri discorsi come infatti potrebbe non vederlo come si suol dire anche un cieco infatti fino a quando queste cose non vengano né confutate né concordemente ammesse difficilmente quando si parli di discorsi falsi o di opinione falsa o di immagini o di raffigurazioni o di imitazione o di apparenza di queste cose oppure anche delle arti che si occupino di esse si sarà in grado di non essere ridicoli da che si è costretti a dire cose in contraddizione con noi stessi verissimo per queste ragioni dunque dobbiamo avere il coraggio ora di attaccare il discorso paterno oppure dobbiamo assolutamente lasciar correre se qualche scrupolo ci trattiene dal fare questo ma nulla in nessuna maniera ci trattenga dal fare questo in terzo luogo ti pregherò ancora di una piccola cosa parla pure dicevo mi pare mentre parlavo poco fa che di fronte alla confutazione di queste cose sempre ed in particolare ora mi trovo come privo di forze lo dicevi temo che proprio per le cose dette io ti sembri essere un po matto perché ad ogni passo mi rivolgo sotto sopra infatti è per far piacere a te che prenderemo a confutare quel discorso ammesso che riusciamo a confutarlo quanto a me per niente nessun modo mi sembrerà che tu commetta qualche errore se affronti questa confutazione e questa dimostrazione coraggio va avanti dritto allo scopo su via dunque qual inizio potrebbe dare uno a un discorso così insidioso mi pare tuttavia ragazzo mio che dobbiamo volgerci per questa strada come la più indispensabile e quale considerare in primo luogo le cose che sembrano chiare affinché essendono confusi in qualche punto non abbiamo ad ammettere facilmente tra di noi di giudicare bene su questi problemi ed è pure chiaro quel che vuoi dire mi pare che con affidabilità parmenide abbia dialogato con noi e chiunque altro mai si mosse al compito di definire quanti e quali sono gli esseri come mi pare che ciascuno ci racconti una favola come se fossero bambini l'uno affermando che gli esseri sono tre e talvolta si fanno guerra tra di loro in qualche modo talvolta invece divenuti amici realizzano nozze figli allattamenti dei nati un altro invece afferma che sono due l'umido e il secco il caldo e il freddo li fa coabitare e li fa generare la nostra schiatta quella di elea da cominciare da sanofne ancora più in là considerando un essere solo quel che viene chiamato il tutto e così si espone con i propri miti in seguito poi alcune muse della ionia e della sicilia ritennero cosa più sicura intrecciare le due posizioni e dire che l'essere molteplice e uno e si sostiene con l'odio e l'amore dicono infatti le più rigorose tra le muse che nel dilacerarsi poi si ricompone ma le muse un po più arrendevoli hanno allentato la concezione che l'essere stia sempre in questa condizione e affermano che il tutto talvolta e uno e amico a se stesso per merito di afrodite e talaltra invece che è molteplice e nemico a se stesso per una sorta di contesa ma se qualcuno di questi uomini ha sostenuto tutto questo in modo veritiero o al suo contrario è difficile da dirsi ed neppure è sconveniente biasimare gravemente personaggi così illustri ed antichi ma questo si può pur dire senza provocare riserve cosa che essi non si curano affatto dei molti che siamo noi pur avendone disprezzo perché senza darsi pensiero se possiamo tenere dietro loro quando parlano o se restiamo indietro ognuno di esso porta a compimento il proprio assunto come dici quando uno di essi grida gran voce che l'essere è o è divenuto o diviene molteplice o uno o due e che il caldo è mescolato al freddo o ipotizzando altrove distinzioni o congiunzioni di tutto questo perdi dai teteto tu riesci sempre a capire un qualcosa di quello che dicono io infatti quando ero più giovane quando qualcuno parlava di quel che ora ci provoca perplessità allora pensavo di capirlo esattamente ora tu vedi a che punto siamo di difficoltà lo vedo forse non meno riguardo all'essere subendo la stessa esperienza nella nostra anima diciamo che riguardo a questo noi andiamo bene e di capire quando qualcuno ne fa menzione mentre per l'altro no mentre ci troviamo nella stessa condizione riguardo l'uno e l'altro forse sì e anche per gli altri concetti di cui si è detto in precedenza si dica pure la stessa cosa eh sì ma se credi circa i molti punti già visti condurremo il nostro esame dopo di questo ora invece cominciamo a indagare per primo sul più grande il principale di quale parli o non è evidente che tu dici che per prima cosa bisogna fare ricerca sull'essere cosa mai intendono dire quelli che stimano di renderlo chiaro tu l'hai colto per un piede o teteto dico infatti che noi dobbiamo condurre il metodo in questo modo come se essi fossero presenti e noi chiedessimo loro orsù quanti siete qui a dire che tutto è caldo e freddo o due altri simili principi e che cosa mai volete dire se l'uno è l'altro dicendo che ambidue e uno per ciascuno sono che cosa dobbiamo capire per questo essere da voi proposto forse un terzo lente oltre quegli altri due e dobbiamo porre secondo voi come tutto il tre e non più il due poiché chiamando essere l'uno e l'altro dei due voi non dite che ambidue sono allo stesso modo soltanto l'unità infatti sarebbe una volta e l'altra ma non il due tu dici il vero ma forse voi volete chiamare essere ambidue forse ma amici miei ribatteremo anche così vorrete chiamare uno il due è più che evidente è molto giusto quello che dici ora poiché noi ci troviamo in difficoltà spiegateci voi a sufficienza cosa intendete significare quando pronunciate la parola essere è chiaro infatti che voi lo sapete da tempo mentre noi fino a questo momento lo credevamo ora invece siamo immersi nel dubbio insegnatecelo voi dunque perché opinando di comprendere le cose dette da voi non ci capiti poi tutto il contrario di questo porzendo queste domande ed esegendo risposta da costoro e dagli altri quanti sostengono che il tutto è più di uno ragazzo mio ragazzo mio in cosa potremmo sbagliare in ben poche cose ebbene a tutti quelli che sostengono che il tutto è uno non si deve chiedere fino a che è possibile che cosa vogliono dire con la parola essere come no a questo problema rispondiamo pure voi dite in qualche modo che c'è un solo essere lo diciamo ribatteranno o no sì lo diranno ebbene per essere voi chiamate un qualcosa sì forse quello che chiamate uno usando due nomi per la stessa cosa o come e qual è la loro risposta o ospite a questo è chiaro teteto che a chi pone una tal questione non è facile rispondere né a quanto è stato chiesto ora né a qualunque altra tra le tante cose come ammettere che vi sono due nomi mentre non è stato posto che uno è ridicolo come no e l'accettare con assolutezza quando uno parla che un nome è non ha significato in che modo ponendo un nome diverso dall'oggetto uno in qualche modo dice due cose sì ma se uno pone all'oggetto lo stesso nome o sarà costretto a dire che quel nome è di nulla o se dirà che quello appartiene a una cosa ne conseguirà che quel nome è soltanto il nome di una cosa ma di nessun'altra cosa sì e l'uno essendo nome dell'unità è anche a sua volta unità del nome è necessario ebbene diranno che il tutto è una cosa diversa dall'unità che è o che è invece la cosa identica a questa e perché non dovrebbero o meglio non debbono dirlo se dunque l'intero è come anche per me nide dice da ogni parte simili a massa di ben rotonda sfera a partire dal centro uguale in ogni parte infatti né in qualche parte più grande né in qualche parte più piccolo è necessario che sia da una parte o da un'altra se l'ente è tale ha un centro e insieme degli estremi ma se a questi è necessario che abbia delle parti non è vero è così ma certo nulla impedisce che ciò che si trova diviso in parti possa partecipare dell'uno in tutte le sue parti e che in questo modo essendo un tutto e un intero sia uno perché no ma ciò che si trova in queste condizioni non è forse impossibile che sia l'uno in sé come il veramente uno deve essere del tutto privo di parti per parlare secondo il discorso corretto deve infatti l'uno invece che è composto di molte parti non sarà in armonia con questo nostro discorso comprendo l'ente che partecipa dell'uno sarà così uno e un intero oppure non dobbiamo dire in alcun modo che l'ente è un intero hai posto un difficile dilemma è verissimo ciò che dici infatti se l'ente è uno in qualche modo per partecipazione è evidente che non sarà la stessa cosa che l'uno e dunque tutte le cose saranno più che uno sì eppure se l'ente non è l'intero per il fatto che partecipa dell'uno e se invece l'intero stesso è l'ente risulta privo di se stesso certamente e secondo questo discorso privato di se stesso l'ente non sarà l'ente è così e a loro volta tutte le cose verrebbero ad essere più che uno perché l'ente l'intero hanno ciascuno una propria natura separata da quella dell'altro sì e se invece l'intero assolutamente non fosse questo stesso accadrebbe all'ente e oltre al fatto di non essere esso non potrebbe mai neppure diventare ente e allora ciò che diviene è sempre divenuto intero per conseguenza chi non pone l'intero tra gli enti non deve porre nell'essere nel divenire come reali sembra che le cose stiano proprio così e certamente il non intero non deve essere nemmeno una quantità qualsiasi se infatti fosse una quantità determinata sarebbe necessariamente un intero di quella determinata grandezza esattamente e allora mille altri problemi ciascuno con difficoltà senza confini appariranno a chi dica sia che l'ente è due cose insieme sia che è una cosa sola mi pare che lo mostri chiaramente anche ciò che si è finora intravisto infatti una difficoltà si collega con l'altra portando una più grande e più grave incertezza su quello che si è sempre detto prima ebbene non abbiamo passato in rassegna tutti quelli che discutono con precisione sull'ente sul non-ente tuttavia questo basti invece dobbiamo esaminare a loro volta coloro che dicono diversamente affinché da tutti possiamo renderci conto che dire che cosa è mai lente non è per niente più facile che dire che cosa è il non-ente bisogna dunque procedere anche nei confronti di costoro ecco sembra che fra di loro ci sia una specie di gigantomachia a causa della controversia che c'è fra di loro sull'essere come gli uni trascinano tutte le cose sulla terra giù dal cielo e dall'invisibile afferrando addirittura con le mani macigni e querce infatti attaccandosi a tutte le cose di questo tipo insistono nel sostenere che è soltanto ciò che offre resistenza e contatto definendo corpo ed essere come la medesima cosa mentre se qualcuno degli altri affermerà che c'è qualcosa che non ha corpo lo disprezzeranno da ogni punto di vista e non vorranno sentire nient'altro hai parlato di uomini proprio terribili anch'io infatti ne ho incontrati in gran numero appunto per questa ragione i loro avversari molto prudentemente si difendono dall'alto come da un luogo invisibile sostenendo con forza che il vero essere sono certe forme intellegibili e incorporee i corpi di quelli e la verità che essi affermano sbriciolano in pezzettini e li chiamano invece che essere divenire continuo e tra i due eserciti te eteto c'è sempre una canita battaglia su questi argomenti è vero da entrambi i gruppi allora a turno cerchiamo di afferrare la giustificazione di ciò che essi pongono come essere come dunque potremmo afferrarla è più facile da coloro che lo pongono nelle forme perché sono più docili da coloro invece che riconducono con la forza tutto al corpo è più difficile forse anzi addirittura impossibile ma nei loro riguardi mi sembra che ci si debba comportare in questo modo come soprattutto se in qualche modo fosse possibile renderli migliori di fatto ma se questo non c'è concesso cerchiamo di renderli migliori a parole facendo l'ipotesi che essi intendano rispondere in più civile di quanto facciano ora infatti ciò che è riconosciuto dai migliori credo è più importante di ciò che è riconosciuto dai peggiori del resto noi non ci curiamo di costoro ma cerchiamo la verità giustissimo invita dunque questi che sono divenuti migliori a risponderti e interpreta quello che dicono così sarà dicono allora se affermano che vivente mortale è qualcosa come no ma non ammettono che questo è un corpo animato certo ponendo che l'anima sia uno degli enti sì e poi non affermano che un'anima è giusta ed una ingiusta una saggia e l'altra stolta certo ma ciascun'anima non diventa giusta per il possesso e la presenza della giustizia e il contrario per il possesso e la presenza del contrario sì anche questo ammettono ma certo la possibilità di inerire o di non inerire a qualcosa diranno in ogni caso è qualcosa lo dicono certo se dunque sono la giustizia e la saggezza e ogni altra virtù e i loro contrari e se in particolare è l'anima in cui queste cose hanno luogo dicono che qualcuna di queste cose è visibile e toccabile oppure che sono tutte invisibili direbbero credo che nessuna di queste almeno è visibile e delle cose di questo tipo dicono forse che hanno un corpo su tutto questo non rispondono più allo stesso modo ma essi opinano che l'anima stessa possegga una specie di corpo mentre la saggezza e ciascuna delle altre cose su cui le interroghi si vergognano e non hanno il coraggio o di ammettere che esse non sono per lo meno degli enti o di insistere che tutte sono corpi è chiaro te eteto che per noi sono diventati uomini migliori perché di neppure una di queste affermazioni si vergognerebbero quelli di loro almeno che seminati sono nati dalla terra ma sosterrebbero che tutto ciò che essi non sono in grado di stringere con le mani non è assolutamente niente stai dicendo pressa poco quello che pensano loro ebbene interroghiamoli di nuovo se intendono ammettere che qualcuno degli enti anche piccolo è incorporeo ci basta infatti essi devono dire che cosa c'è di connaturato a queste cose ed insieme a quelle che hanno corpo da cui volgono lo sguardo quando dicono che le une e le altre sono forse però si troverebbero in difficoltà se si trovano in una qualche situazione del genere guarda se dietro nostra proposta abbiano intenzione di accettare e riconoscere che l'ente sia di questo tipo di quale tipo parla e presto lo sapremo ebbene dico che ciò che possiede anche una qualsiasi potenza o che per natura sia predisposto a produrre un'altra cosa qualunque o a subire anche una piccolissima azione da parte della cosa più insignificante anche se soltanto per una volta tutto ciò realmente è infatti propongo una definizione gli enti non sono altro che potenza ma essi poiché non hanno al momento niente di meglio di questo da dire accettano questa definizione bene forse infatti a noi come a loro potrà apparire in seguito una cosa diversa per intanto dunque rimanga convenuta tra noi e costoro questa definizione rimane convenuta rivolgiamoci allora verso gli altri gli amici delle forme tu facci da interprete anche delle loro tesi sarà fatto parlate se non erro distinguendo e separando divenire ed essere non è così sì e dite che noi con il corpo per mezzo della sensazione comunichiamo con il divenire con l'anima invece per mezzo del ragionamento ci rapportiamo all'essere reale che voi dite che è sempre il medesimo e nello stesso modo mentre il divenire è di volta in volta sempre diverso diciamo così infatti ma nobilissimo tra tutti che cosa dobbiamo dire che voi intendiate con comunicare in relazione all'uno e all'altro dei due casi non è forse quello che è stato da noi detto poco fa che cosa un subire oppure un fare per mezzo di una determinata potenza derivanti dai termini che vanno incontro l'uno all'altro forse dunque teteto tu non comprendi fino in fondo la loro risposta a queste domande mentre io probabilmente sì per la mia consuetudine con loro che discorso fanno allora non ci concedono quello che poco fa è stato detto riguardo all'essere in relazione ai nati dalla terra che cosa abbiamo posto se non erro come definizione adeguata degli enti quando a qualcosa in risca una potenza di subire o di agire anche in minimo grado sì ebbene a questo ribattono che il divenire partecipa della potenza del subire e del fare mentre dicono che all'essere invece non si adatta alla potenza né dell'uno né dell'altro e dicono qualcosa di valido a questo almeno noi dobbiamo replicare che abbiamo bisogno ancora di essere informati da loro in maniera più chiara se ammettono che da una parte l'anima conosca e dall'altra che l'essere sia conosciuto certo questo almeno lo affermano e poi affermate che il conoscere o l'essere conosciuto sono un'azione fatta ovvero subita o entrambe oppure che uno è azione subita l'altro un'azione fatta oppure non partecipano affatto né l'uno né l'altro di alcuna di questi due tipi di azione è chiaro che nessuno dei due partecipa dell'una o dell'altra infatti direbbero il contrario di ciò che hanno detto prima comprendo questo almeno devono dirlo se il conoscere sarà un fare ne consegue necessariamente che ciò che viene conosciuto subisca allora secondo questo ragionamento l'essere che è conosciuto dall'atto conoscitivo in quanto è conosciuto intanto si muove per il fatto di subire un'azione cose che noi affermiamo che non può avvenire nel caso di una realtà inquiete giusto e poi per zeus ci lasceremo forse persuadere che davvero movimento vita anima intelligenza non sono presenti nel lente nella sua totalità e che esso non vive ne pensa ma venerabile santo senza intelligenza sia immobile fermo faremmo concessioni a un discorso terribilmente strano ma dobbiamo affermare che si intelletto ma vita invece no e come allora diciamo che entrambe queste cose sono in lui e diremmo che non le ha nell'anima e in quale altro modo potrebbe averle ma allora diremmo che ha intelletto vita e anima e che nonostante ciò pur essendo appunto animato se ne resta immobile a me pare evidente che tutto ciò è assurdo e dobbiamo concedere che ciò che si muove il movimento sono enti come no ne consegue dunque teteto che se tutti gli enti fossero immobili non ci sarebbe intelletto per nessuno di nessuna cosa in nessun luogo esattamente eppure se noi ammettessimo d'altro canto che tutte le cose si spostano e sono in movimento anche con questo discorso elimineremmo dall'ambito degli enti questa stessa cosa come ciò che è identico allo stesso modo nella medesima relazione ti sembra che possa mai essere se non inquiete per niente e allora tu vedi che l'intelletto in qualche luogo sia o sia stato senza questi caratteri no affatto è certo che con ogni discorso dobbiamo combattere contro chi in qualunque modo insiste su qualcosa pur annientando scienza o intelligenza o intelletto e con energia dunque per chi è filosofo e tiene queste cose in grandissimo onore è per questi motivi assolutamente necessario come si vede non accettare dai sostenitori dell'uno e delle molteplici idee che il tutto sia immobile e non dare assolutamente retta a quelli che dal canto loro ammettono in movimento l'ente dappertutto ma secondo la preghiera dei bambini che le cose immobili siano anche in movimento deve affermare dell'ente e del tutto l'una e l'altra cosa insieme verissimo dunque non è evidente che abbiamo adeguatamente circoscritto l'ente con il nostro discorso certo ahimè teteto mi sembra che solo ora conosceremo la difficoltà dell'indagine su di esso come dici perché dici di nuovo questo beato te non capisci che ora siamo nell'ignoranza più grande a proposito dell'ente mentre a noi stessi sembra di dire qualcosa di valido a me sì d'altro canto non comprendo bene come ci siamo trovati in questa situazione senza accorgersene cerca allora di vedere più chiaramente se ammettendo noi quello che ora stiamo ammettendo sarebbe giusto che a noi stessi sia domandato quello che noi chiedevamo allora a coloro i quali dicono che il tutto è caldo e freddo che cosa fammi ricordare certo e cercherò di farlo interrogando te come quelli allora affinché insieme facciamo qualche progresso giusto molto bene allora non dici che movimento e quiete sono massimamente contrari l'uno all'altro e come no e dici anche che entrambi e ciascuno allo stesso modo sono certo che lo dico intendo che sono entrambi e ciascuno in movimento quando concedi che sono per niente al contrario vuoi dire che sono immobili quando dici che entrambi sono e come forse ponendo che nell'anima l'ente è una terza cosa oltre a queste pensando che da esse siano abbracciati insieme la quiete e il movimento raccogliendoli insieme e volgendo lo sguardo al fatto che essi hanno in comune l'essere è così che dici che entrambi sono corriamo veramente il rischio di indovinare che l'ente è una terza cosa quando diciamo che movimento e quiete sono dunque l'ente non è l'una e l'altra cosa insieme movimento e quiete bensì una cosa diversa da queste sembra secondo la sua stessa natura dunque l'ente non è né immobile né in movimento forse e dove allora deve volgere il pensiero chi voglia fissare saldamente in sé qualcosa di chiaro sull'ente dove infatti credo che non sia facile ormai da nessuna parte infatti se qualcosa non è in movimento come potrebbe non essere fermo ovvero d'altro canto ciò che non è per niente fermo come potrebbe non essere in movimento invece l'ente ci appare al di fuori di entrambe queste situazioni e questo dunque è possibile no è la cosa più impossibile di tutte allora a questo proposito è giusto ricordarsi di questo di che cosa del fatto che interrogati sul nome del non ente a che cosa mai si dovesse riferirlo fummo colti da perplessità totale ti ricordi e come no dunque ora ci troviamo per quanto riguarda l'essere in una minore difficoltà straniero mi sembra se si può dire che siamo evidentemente in una difficoltà più grande ebbene resti allora stabilito che su questo ci si trova in difficoltà ma poiché in qual misura l'ente e non ente partecipano della difficoltà c'è ormai speranza che quanto l'uno dei due si riveli più oscuro più chiaro altrettanto si riveli anche l'altro e se di nuovo non riusciamo a vedere nell'uno nell'altro per qualunque strada siamo capaci di far passare il più agevolmente possibile il nostro discorso li salveremo entrambi insieme bene diciamo allora in quale modo noi di fatto chiamiamo questa stessa cosa di volta in volta con molti nomi in che modo dunque fa un esempio per esempio noi parliamo del uomo attribuendogli molti nomi riferendogli i colori le figure le grandezze vizi e virtù tutte cose nelle quali come in mille altre non solo diciamo che egli è uomo ma anche che è buono e infinite altre cose ed anche delle altre cose secondo lo stesso discorso in questo modo poniamo che ciascuna cosa sia una e di nuovo la diciamo molteplice e la chiamiamo con molti nomi dici il vero onde credo abbiamo preparato un vero banchetto per i giovani e per quei vecchi che imparano in tarda età ad ognuno infatti è a portata di mano controbattere immediatamente che è impossibile che i molti siano uno e l'uno molti e certamente godono a non permettere che si dica un uomo è buono ma è contrario che il buono è buono e l'uomo è uomo io credo infatti che ti capiti spesso di incontrare uomini che prendono sul serio cose di questo tipo talvolta uomini anziani e che per la povertà del loro patrimonio intellettuale restano pieni di ammirazione per cose del genere e anzi credono che proprio questa scoperta sia il massimo della sapienza precisamente ebbene affinché il nostro discorso sia rivolto a tutti coloro che in qualunque tempo e in qualunque modo abbiano trattato dell'essere valga anche per questi come per tutti gli altri con cui abbiamo discusso prima ciò che ora stiamo per dire sotto forma di domanda che cosa dunque non dobbiamo congiungere l'essere con il movimento e con quiete e nessun'altra cosa con nessun'altra ma dobbiamo al contrario porre nei nostri discorsi queste cose come non collegate e come incapaci di partecipare le une delle altre oppure dobbiamo ricondurle tutte alla medesima cosa in quanto tali da poter avere reciproca comunanza oppure alcune sia l'altra no quale di queste alternative teteto diremo che essi sceglieranno io non ho niente da rispondere a queste domande al posto loro dunque perché rispondendo a ciascuna domanda una per una non cerchi di esaminare le conseguenze logiche dici bene e poniamo pure che essi dicano se vuoi innanzitutto che niente alcuna possibilità di comunicazione con nessuna cosa per alcun rispetto quindi movimento e quiete non parteciperanno in nessun modo all'essere no infatti e allora l'uno o l'altro dei due potrà essere senza comunicazione con l'essere non potrà ecco che subito con questa missione tutto come sembra si trova sotto sopra sia l'opinione di coloro che pongono il tutto in movimento sia l'opinione di coloro che lo fanno stare fermo in quanto uno sia di quanti affermano che gli enti esistono secondo forme sempre identiche e costanti tutti costoro infatti collegano l'essere gli uni dicendo che è realmente in movimento gli altri che è realmente inquiete esattamente e certo anche tutti quelli che una volta riconducono tutte le cose insieme ed una volta le separano sia che le riconducano all'uno ed all'uno separino infinite parti sia che le dividono in elementi che hanno un limite e le mettono insieme traendole da questi tutti costoro allo stesso modo sia che pongono che ciò avviene di volta in volta sia che sia sempre così da tutti questi punti di vista non direbbero niente di sensato se non fosse possibile alcuna mescolanza giusto inoltre il discorso più ridicolo di tutti lo farebbero coloro che non consentissero di denominare una cosa in base alla comunanza che essa ha con l'affezione di un'altra cosa sono costretti in tutti i casi a valersi di espressioni come essere separatamente dagli altri per sé e mille altre e poiché di essa non possono fare a meno e non possono non connetterle nei loro discorsi non hanno bisogno di altri che le confutino ma hanno per così dire in casa il nemico che li contrasterà e mentre parla dentro di loro come quello strano euricle e si camminano portandoselo sempre in giro precisamente quello che dice è molto somigliante al vero e invece se consentiamo che tutte le cose abbiano capacità di reciproca comunione questo problema sono capace anch'io di risolverlo come dicendo che il movimento stesso sarebbe del tutto immobile e la quiete dal canto suo sarebbe in movimento se fosse vero che sono in reciproca comunione ma questo certo è impossibile credo secondo le massime regole della necessità che il movimento sia immobile e la quiete sia in movimento come no resta soltanto la terza possibilità sì una di queste ipotesi è certo necessaria o tutto si mescola o niente si mescola o alcune cose possono mescolarsi altre no come no eppure si è trovato che le prime due sono impossibili sì dunque chiunque voglia rispondere correttamente dovrà porre quella che resta delle tre precisamente allora quando alcune cose possono fare questo ma altre no si troveranno pressapoco nella condizione delle lettere dell'alfabeto infatti anche di quelle alcune se non erro non si connettono fra loro altre invece sì come no le vocali a differenza delle altre lettere corrono come un legame attraverso tutte così che senza qualcuna di esse è impossibile anche connettere una delle altre ad un'altra proprio così dunque ognuno sa quali lettere con quali altre è possibile che siano in comunione oppure a chi intenda fare ciò adeguatamente occorre un'arte occorre un'arte quale la grammatica e per i suoni acuti e gravi non è pure così chi possiede l'arte di riconoscere quelli che si accordano e quelli che non si accordano è musicista mentre chi non ha questa conoscenza non lo è è così ed anche dal punto di vista delle altre arti o mancanze di arti troveremo altre situazioni di questo tipo come no bene poiché abbiamo trovato un accordo sul fatto che i generi si trovano nella medesima condizione di mescolanza reciproca non è dunque necessario che nei suoi discorsi proceda con una determinata scienza che abbia intenzione di mostrare in modo corretto quali dei generi si accordino e con quali e quali reciprocamente si escludono ed in particolare se ce ne siano alcuni che li connettono attraversandoli tutti in modo che siano capaci di mescolarsi e viceversa nelle divisioni se ce ne siano altri che attraversando gli interi siano causa della divisione come potrebbe non occorrere una scienza e forse forse la più grande questa scienza dunque te eteto come la chiameremo per zeus senza rendercene conto ci siamo forse imbattuti nella scienza degli uomini liberi e rischiamo mentre stiamo cercando il sofista di avere trovato prima il filosofo come dici il dividere per generi e non ritenere diversa una forma che è identica né identica una forma che è diversa non diremo che è proprio della scienza dialettica sì lo diremo dunque chi è capace di fare questo discerne adeguatamente una sola idea che si estende da tutte le parti attraverso molte altre ciascuna delle quali rimane un'unità separata e molte idee diverse tra loro abbrazzate dal di fuori da una sola idea e d'altra parte un'unica idea attraverso molto interi raccolta in unità e molte idee del tutto distinte e separate appunto in questo consiste la scienza del distinguere per generi nel sapere in quale modo ciascun genere possa comunicare e quale no è così senza dubbio ma questa capacità dialettica tu non l'attribuirai a nessun altro credo se non a colui che filosofa in modo puro e giusto come sarebbe possibile attribuirla ad un altro allora il filosofo lo troveremo in un luogo di questo tipo ora ed in futuro se lo cerchiamo è difficile vedere con chiarezza anche costui ma la difficoltà che esso comporta è di tipo diverso da quella del sofista come quest'ultimo sfuggendo nell'oscurità del non ente ed attaccandosi ad essa nella pratica è difficile da scorgere a causa dell'oscurità del luogo o no pare il filosofo invece attraverso i suoi ragionamenti sempre vincolato all'idea dell'ente non è per niente facile da vedere viceversa a causa dello splendore del luogo infatti gli occhi dell'anima dei più non sono capaci di resistere alla visione del divino anche queste cose non meno di quelle è verosimile che siano così dunque sul filosofo faremo presto una ricerca più chiara se sarà ancora rispondente alla nostra volontà quanto al sofista invece è chiaro credo che non deve andarsene prima che noi lo abbiamo osservato a sufficienza dici bene dunque poiché conveniamo nel ritenere che alcuni generi ammettano una reciproca comunione ed altri invece no e alcuni in modo ristretto altri in modo ampio e che niente impedisce che altri estendendosi attraverso tutti abbiano comunione con tutti seguiamo col ragionamento ciò che ne deriva conducendo l'esame così non riguardo a tutte le forme per non confonderci in mezzo a molte ma scegliendo alcune di quelle che sono dette le più grandi per prima cosa esaminiamo quale sia ciascuna di esse poi quale capacità esse abbiano di comunione fra loro affinché seppure non riusciamo a cogliere l'ente e il non ente con chiarezza almeno non restiamo senza una spiegazione al loro riguardo per quanto il procedimento dell'attuale ricerca lo permetta se in qualche modo a noi che diciamo che il non ente è realmente ente riesca possibile cavarsela senza danno affinché seppure non riusciamo a cogliere l'ente e il non ente con chiarezza almeno non restiamo senza una spiegazione al loro riguardo per quanto il procedimento dell'attuale ricerca lo permetta se in qualche modo a noi che diciamo che il non ente è realmente non ente riesca possibile cavarsela senza danno bisogna fare così importantissimi tra i generi certo sono quelli che abbiamo ora trattato l'ente in sé quiete movimento molto importanti e diciamo che certamente due di essi non sono mescolabili tra loro senza dubbio ma l'ente almeno è mescolabile con entrambi infatti entrambi sono se non erro come no questi quindi vengono ad essere tre certo dunque ciascuno di essi è diverso dagli altri due ma identico a se stesso è così che cosa sono mai d'altro canto questi che ora abbiamo chiamato l'identico e il diverso sono due generi determinati altri da quei tre sempre necessariamente mescolati a quelli e dovremmo condurre il nostro esame su di essi considerando che sono cinque e non tre oppure senza rendercene conto usiamo questa espressione l'identico e il diverso per denominare uno di quelli forse ma certo movimento e quiete non sono né un che di diverso né un che di identico come qualsiasi cosa noi predichiamo in comune di movimento e di quiete questa non è possibile che sia né l'uno né l'altra dei due perché il movimento starebbe fermo e la quiete dal canto suo sarebbe in movimento infatti se l'uno l'altro uno qualsiasi dei due si aggiungesse ad essi costringerebbe a sua volta l'altro in quanto partecipe del contrario a trasformarsi nel contrario della propria natura esattamente eppure entrambi partecipano di identico e diverso sì allora non dobbiamo dire che il movimento è l'identico o il diverso né che lo è dal canto suo la quiete no infatti ma dunque dobbiamo pensare l'ente e l'identico come una cosa sola forse ma se l'ente e l'identico non hanno alcuna differenza di significato dicendo che a loro volta movimento e quiete entrambi sono diremo in questo modo che essi sono un'identica cosa eppure questo è impossibile è impossibile dunque che l'identico e l'ente siano un'unità direi allora dobbiamo porre l'identico come quarta forma oltre alle tre precedenti certo e poi dobbiamo dire che il diverso è una quinta forma oppure bisogna pensare questo è l'ente come due nomi riferiti ad un unico genere forse bisognerebbe ma io credo che tu mi conceda che di alcuni enti si dice che sono sempre per sé di altri che sono sempre in relazione ad altre cose e perché no e il diverso è sempre in relazione a un diverso non è vero non lo sarebbe se l'ente e il diverso non fossero assolutamente differenti ma se un diverso partecipasse di entrambe le forme come l'ente ci sarebbe qualcuno anche dei diversi che non sarebbe diverso in relazione a un diverso ora invece assolutamente si risulta che qualunque cosa sia diversa necessariamente è quella che è cioè diversa da una diversa le cose stanno come dici dunque dobbiamo dire che la natura del diverso è quinta tra le forme nell'ambito delle quali abbiamo fatto la scelta sì e diremmo che essa è diffusa attraverso tutte quelle forme ciascuna infatti in quanto una è diversa dalle altre non per la propria natura ma per il fatto che partecipa all'idea del diverso perfettamente così allora diciamo di queste cinque forme riprendendole da capo una per una come in primo luogo dal movimento che è assolutamente diverso dalle quiete o come diciamo così e pertanto non è quiete per niente ma è perché partecipa all'ente è di nuovo da capo il movimento è diverso dall'identico direi dunque non è identico no infatti ma certo esso era identico almeno perché tutto partecipa a sua volta dell'identico certo bisogna allora riconoscere che il movimento è identico e non identico e non dobbiamo protestare infatti quando diciamo che il movimento è identico e non identico non lo diciamo dallo stesso punto di vista ma quando lo diciamo identico diciamo così di esso per la sua partecipazione all'identico quando invece lo diciamo non identico è per la sua comunanza col diverso grazie alla quale separato dall'identico non diventa quello ma un diverso così che è di nuovo corretto dirlo non identico precisamente dunque se il movimento stesso in qualche modo partecipasse della quiete non sarebbe per niente assurdo dire che esso è statico sarebbe correttissimo anzi se concederemo che alcuni dei generi si lasciano mescolare con l'altro e altri invece no eppure alla dimostrazione di questo siamo arrivati già prima d'ora provando per confutazione che è così per natura come no diciamo allora da capo il movimento è diverso dal diverso come prima era altro dall'identico e dalla quiete è necessario dunque è non diverso in un certo senso è diverso secondo il discorso attuale vero dunque allora che cosa diremo dopo di ciò diremo da una parte che il movimento è diverso da quelle tre forme e non dobbiamo dirlo diverso dalla quarta avendo noi riconosciuto che sono cinque le forme sulle quali e tra le quali ci siamo proposti di indagare e come infatti è impossibile concedere che il loro numero sia inferiore a quello che ci è risultato ora evidente non dobbiamo dunque temere di dire di sostenere che il movimento è diverso dall'essere nessunissima paura allora è chiaro che il movimento non essendo realmente è anche ente visto che partecipa dell'ente chiarissimo dunque risulta necessariamente che il non ente è in relazione al movimento e secondo tutti i generi infatti è secondo tutti i generi che la natura del diverso rendendo ciascun genere diverso dall'ente fa sì che ciascuno non sia e così diremo correttamente che tutti quanti i generi insieme per se stessi sono non enti e che viceversa poiché partecipano all'ente sono anche enti rischia che sia così dunque per ciascuna delle forme molto è l'ente ma l'infinito nella sua molteplicità è il non ente pare dunque anche l'ente in sé si deve dire che è dagli altri generi necessariamente per noi dunque anche l'ente non è per tante volte quanti sono gli altri generi esso infatti non essendo quelli è in sé uno ma d'altro canto non è quegli altri che sono infiniti di numero dirai che è così ebbene neanche perciò dobbiamo protestare se è vero che la natura dei generi ha in sé una comunanza reciproca dell'uno e dell'altro ma se uno concede questo solo se ci avrà convinti per quanto riguarda i nostri discorsi precedenti potrà passare a persuaderci di quello che segue giustissimo quello che dici allora vediamo anche questo che cosa quando diciamo il non ente come sembra non diciamo qualcosa di contrario all'ente ma soltanto qualcosa di diverso come per esempio quando diciamo qualcosa non grande ti sembra che in tal caso noi esprimiamo con questa espressione il piccolo piuttosto che l'uguale e come quando si dica che una negazione significa opposizione noi non lo concederemo ma ammetteremo soltanto questo che le particelle negative preposte indicano qualcosa d'altro rispetto ai nomi che le seguono o meglio rispetto alle cose a cui si riferiscono ai nomi pronunciati dopo la negazione riflettiamo su questo se anche tu sei del medecimo parere su che cosa a me sembra evidente che la natura del diverso sia articolata come la scienza come anche quella è in qualche modo una ma ogni sua parte distinta per il fatto che è relativa ad un determinato oggetto ha una sua propria determinazione è per questo che si parla di molte arti e di molte scienze certamente dunque anche le parti della natura del diverso che è una subiscono questo stesso fatto forse ma vogliamo dire come c'è una qualche parte del diverso contrapposta al bello c'è diremo che questa è senza nome oppure che ha una qualche denominazione ce l'ha infatti ciò che di volta in volta noi diciamo non bello questo è diverso non da un'altra cosa qualsiasi bensì dalla natura del bello avanti ora dimmi questo che cosa il non bello viene così ad essere uno degli enti di un determinato genere una cosa separata e poi di nuovo contrapposta ad un altro degli enti è così il non bello viene ad essere allora come pare una determinata contrapposizione di ente ad ente giustissimo allora secondo questo discorso a nostro avviso il bello può essere e il non bello meno per niente dunque si deve dire che il non grande e il grande in sé sono in egual misura in egual misura dunque il non giusto deve essere posto allo stesso modo del giusto in relazione al fatto che uno non è un qualcosa per niente più dell'altro certamente così allora parleremo anche degli altri generi dal momento che la natura del diverso appartiene chiaramente agli enti e se quella è è necessario porre che anche le sue parti sono e non di meno enti come no dunque come sembra la contrapposizione di una parte della natura del diverso e della natura dell'ente fra di loro autentiche non è se lecito dirlo meno realtà dell'ente in sé poiché essa significa non un contrario di quello bensì soltanto un diverso da quello chiarissimo come dunque la dovremo chiamare è chiaro che il non ente che abbiamo cominciato a cercare a motivo del sofista è appunto questo dunque come tu hai detto il diverso non è affatto difettoso di essere rispetto a nessuno degli altri generi e bisogna ormai avere il coraggio di dire che il non ente possiede in modo stabile la sua natura come grande era grande il bello era bello il non grande non grande e non bello non bello così anche il non ente per la stessa ragione era e non è ente ossia un'unica forma che rientra nel novero dei molteplici enti abbiamo ancora qualche dubbio teeteto nei confronti di esso nessun dubbio sai dunque che abbiamo disubbidito parmenide andando molto al di là del suo divieto perché noi spingendoci nella ricerca ancor più avanti di quanto ci ha vietato di indagare ne abbiamo fornito una dimostrazione in che modo poiché egli dice in un certo luogo inoltre questo non potrà mai imporsi che siano le cose che non sono ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero dice davvero così noi invece non solo abbiamo dimostrato che i non enti sono ma abbiamo anche mostrato la forma che è propria del non ente infatti dopo aver dimostrato che la natura del diverso è e che è suddivisa in tutti gli enti che sono fra loro in rapporti reciproci abbiamo avuto il coraggio di dire che ciascuna parte di essa che è contrapposta all'ente proprio questa è veramente il non ente e senza dubbio straniero mi sembra che noi abbiamo detto cose verissime e allora non si deve dire che noi mentre dimostriamo il non ente come contrario dell'ente osiamo tuttavia dire che esso è noi infatti già da un pezzo abbiamo dato l'addio ad un contrario dell'ente sia che esso sia sia che esso non sia 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 che esso ne possa dare ragione sia che esso sia del tutto irrazionale invece quanto a ciò che noi ora abbiamo detto ossia che il non ente è o qualcuno dovrà cercare di persuadersi che non diciamo bene confutandoci oppure fintanto che non ne sarà capace bisogna che anche lui dica come diciamo noi ossia che i generi si mescolano fra loro e che l'ente e il diverso penetrano attraverso tutti i generi e l'uno nell'altro e che il diverso partecipando dell'ente non è però a motivo di questa partecipazione ciò di cui partecipa bensì è diverso e poiché è diverso dall'ente è evidentissimo che è necessario che sia non ente e poiché l'ente dal canto suo è partecipe del diverso dovrà essere diverso dagli altri generi ma poiché è diverso da tutti quei generi non è né ciascuno di essi né tutti gli altri presi insieme all'infuori di se stesso di conseguenza l'ente a sua volta per innumerevoli cose in innumerevoli casi indiscutibilmente non è e così anche gli altri generi ciascuno preso a sé e tutti insieme per molti rispetti sono e invece per molti altri non sono è vero e se uno ha dei dubbi su queste contrapposizioni deve indagare di persona e deve dire qualcosa di meglio di quello che si è detto ora se pensando che sia un'impresa difficile prende gusto a tirare i discorsi ora da una parte ora dall'altra vuol dire che è dedicato la sua attenzione a cose che non sono degne di molta attenzione come attestano i nostri attuali discorsi scoprire questo non è cosa raffinata né difficile ma scoprire quello sì è difficile e insieme bello che cosa quello che si diceva anche prima lasciar perdere queste ricerche come inconcludenti essere in grado di seguire confutandole una per una le cose dette sia quando uno dica che un ente diverso in qualche misura è identico sia quando dica che un ente identico è diverso in quel modo ed a quel punto di vista in base al quale uno afferma che l'uno o l'altro di questi subisce l'affezione ma dichiarare l'identico in un modo o nell'altro diverso ed il diverso identico il grande piccolo il simile dissimile e provar gusto così ad introdurre sempre i contrari nei discorsi non è un'autentica confutazione questa anzi è chiaro che è come un neonato essendo uno che ha contatto degli enti per la prima volta esattamente e infatti mio caro cercare di separare tutto da tutto non solo è scorretto ma è tipico di un uomo privo dei doni delle muse e negato per la filosofia perché slegare ogni cosa da tutte le altre è il più completo annientamento di ogni discorso infatti è dal reciproco intreccio delle forme che nasce il nostro discorso è vero vedi bene come era opportuno poco fa che noi polemizzassimo con uomini di questo tipo e li costringessimo a permettere che un genere si mescoli con l'altro opportuno rispetto a cosa rispetto al fatto che per noi il discorso è uno dei generi degli enti se fossimo privati di esso saremmo privati la cosa più grave di tutte della filosofia inoltre in questo momento dobbiamo metterci d'accordo su che cosa è un discorso se ne venissimo privati in modo che esso non esistesse affatto non saremmo in grado di dire più nulla se non erro e ne verremmo privati se concedessimo che non c'è nessuna mescolanza di niente con niente questo almeno è corretto ma non ho capito perché ora dobbiamo metterci d'accordo sul discorso ma forse lo capiresti molto facilmente se mi seguissi per questa strada per quale il non ente ci si è manifestato come un determinato genere che tra gli altri disseminato in tutti i denti è così dunque quello che dopo di ciò bisogna indagare è se si mescola con l'opinione e insieme con il discorso perché se il non ente non si mescolasse con opinione e discorso tutto sarebbe necessariamente vero mentre se si mescola nascono opinione falsa e discorso falso infatti opinare direi non enti questo è credo il falso che si genera nel pensiero e quindi nei discorsi e così se c'è il falso c'è l'inganno sì e certo se c'è l'inganno è inevitabile che tutte le cose siano ormai piene di raffigurazioni di immagini di apparenza come no infatti ma noi dicevamo che il sofista ha trovato rifugio in questo luogo se non erro ma che nega che esista affatto il falso infatti il non ente non si può pensare né dire perché esso non partecipa per niente in alcun modo all'essere era questo che dicevamo ora è evidente che il non ente partecipa dell'ente e così in tal modo forse il sofista non potrà più polemizzare probabilmente però potrebbe dire che alcune delle forme partecipano del non ente ed altre invece no e che discorso e opinione sono di quelle che non ne partecipano così che potrebbe ribattere di nuovo che l'arte della raffigurazione dell'apparenza in cui noi diciamo che egli si trova assolutamente non è dal momento che discorso e opinione non hanno comunione con il non ente infatti il falso non esiste affatto se non sussiste questa comunione per questi motivi dunque bisogna ricercare in primo luogo che cosa siano mai discorso e opinione apparenza affinché una volta che essi si siano rivelati noi possiamo vedere anche la loro comunione con il non ente e vista questa possiamo dimostrare che il falso è e dimostrato questo possiamo legarci dentro il sofista se è colpevole oppure lasciatolo libero possiamo cercare all'interno di un altro genere perfettamente straniero sembra essere vero quello che si è detto del sofista fin dall'inizio cioè che questo genere è difficile da catturare è evidente infatti che è pieno di difese e che quando ce ne ha gettata davanti qualcuna è questa che è innanzitutto necessario superare con la nostra lotta prima di giungere fino a lui ora infatti a stento siamo riusciti a superare l'ostacolo che ci ha posto di fronte cioè il non ente non è ma ce ne viene posto davanti un altro e bisogna allora dimostrare che il falso è sia nel discorso sia nell'opinione e dopo questo forse un altro e ancora un altro dopo quello un termine a quanto sembra non comparirà mai bisogna avere coraggio teteto e andare sempre avanti anche di poco per quanto è possibile infatti chi si scoraggia in questi casi che cosa mai potrà fare in altri in cui o non avesse alcun successo o fosse addirittura ricacciato di nuovo al punto di partenza è difficile credo per dirla col proverbio che un uomo del genere possa mai espugnare una città ma ora da bravo poiché è stata compiuta l'impresa di cui stai parlando è come se fosse stato abbattuto il muro più grande e il resto ormai sarà più facile e di minor conto dici bene come è stato appena detto prendiamo prima il discorso e l'opinione per renderci conto più chiaramente se il non ente è in contatto con essi oppure se entrambi sono assolutamente veri e nell'uno nell'altra sono mai falsi giusto orso dunque come dicevamo a proposito delle forme e delle lettere dell'alfabeto di nuovo indaghiamo allo stesso modo anche sui nomi ciò che ora stiamo cercando è così che in qualche modo risulta evidente a che cosa bisogna dunque fare attenzione a proposito dei nomi se tutti si accordano l'uno con l'altro oppure nessuno se alcuni ammettono questo accordo ed altri invece no chiaro è almeno questo alcuni lo ammettono ed altri no forse tu intendi dire che i nomi che sono pronunciati di seguito e indicano qualcosa si accordano mentre quelli che nella successione non significano nulla non si accordano come che cosa intendi dire con questo quello che credevo che tu già pensassi nel dichiararti d'accordo con me infatti noi abbiamo se non erro un duplice genere di segni che con la voce indicano l'essere come l'uno è chiamato nomi l'altro verbi descrivi l'uno e l'altro il segno che si riferisce alle azioni lo chiamiamo verbo se non erro sì il segno invece che si riferisce a coloro stessi che compiono quelle azioni si chiama nome perfettamente dunque da soli nomi pronunciati di seguito non deriva mai un discorso e neppure d'altro canto da verbi pronunciati senza i nomi questo non l'ho capito è chiaro infatti che poco fa ti sei detto d'accordo ma avevi lo sguardo rivolto a qualcos'altro perché è proprio questo che volevamo dire questi termini pronunciati così di seguito non sono un discorso come per esempio cammina corre dorme e tutti quanti gli altri verbi che significano azioni anche se uno li dicesse tutti di seguito non per questo costruirebbe un discorso e come infatti dunque di nuovo anche quando si dica leone cervo cavallo e quanti nomi si possono citare di coloro che compiono le azioni anche secondo questa successione non può sussistere ancora un discorso infatti né in questo caso né in quello le parole pronunciate non rivelano alcun modo di agire nell'essere di un ente né quello di un non ente prima che uno abbia unito i verbi con i nomi allora si accorderebbero e la prima connessione subito diventerebbe un discorso dirà il primo ed il più breve dei discorsi che cosa intendi dunque con ciò quando uno dica l'uomo impara riconosci che questo è il più breve e insieme il primo discorso io sì infatti esso è già in qualche modo indicativo delle cose che sono che divergono o che sono divenute o che stanno per essere e non solo denomina ma anche determina connettendo i verbi con i nomi perciò noi diciamo che non solo denomina ma anche dice ed è in particolare a questo intreccio che noi diamo il nome di discorso giusto così dunque come delle cose alcune si accordano fra di loro ed altre invece no anche per quanto riguarda dal canto loro i segni della voce alcuni non si accordano e quelli di essi che invece si accordano costruiscono un discorso proprio così ancora questa piccola cosa quale quando c'è un discorso è necessario che abbia un oggetto che non abbia un oggetto invece enti che riguardano te infatti abbiamo detto che riguardo a ciascuno ci sono se non erro molti enti e molti non enti precisamente il discorso che ho tenuto per ultimo su di te innanzitutto in base alla nostra definizione di che cosa è un discorso assolutamente inevitabile che sia uno dei più brevi poco fa almeno su questo ci siamo trovati d'accordo e poi riguarda qualcuno è così e se non riguarda te non riguarda nessun altro come potrebbe infatti ma se non riguarda nessuno non può essere affatto neppure un discorso abbiamo infatti dichiarato che è impossibile che sia un discorso e sia un discorso che non riguarda nessuno giustissimo le cose dette su di te diverse e tuttavia dette come identiche non enti ma dette come enti senza dubbio una tale combinazione ottenuta da verbi e nomi para essere realmente e veramente un discorso falso verissimo certo e allora pensiero opinione e apparenza non è ormai chiaro che tutte queste cose ci nascono nell'anima sia vere sia false come lo apprenderai più facilmente se prima avrai afferrato che cosa mai esse sono ed in che cosa ciascuna differisca dalle altre spiegati pure pensiero e discorso sono la stessa cosa tranne che l'uno è un dialogo interno dell'anima con se stessa che avviene senza voce ed è proprio questo che noi abbiamo denominato pensiero o no proprio così invece il flusso che deriva dall'anima attraverso la bocca scorrendo insieme con la voce si chiama discorso vero e d'altro canto sappiamo bene che nei discorsi c'è che cosa affermazione e negazione lo sappiamo quando dunque questo avviene nell'anima secondo il pensiero in silenzio puoi chiamarlo in altro modo se non opinione e come ma quando si presenti a qualcuno non per se stesso ma mediante una sensazione un'affermazione di questo tipo dal canto suo è forse possibile e giusto chiamarla con nome diverso da apparenza per niente dunque poiché il discorso abbiamo visto può essere vero e falso e poiché tra i discorsi il pensiero ci si è manifestato come un dialogo dell'anima con se stessa e l'opinione è conclusione di un pensiero mentre ciò di cui diciamo appare è mescolanza di sensazione e opinione è necessario che essendo queste affini al discorso alcune di esse talvolta siano false come no comprendi dunque che opinione e discorso falsi sono stati da noi trovati prima di quanto ci aspettassimo quando poco fa avevamo paura cercando ciò di gettarci in un'impresa affatto inconcludente comprendo non scoraggiamoci dunque e neanche di fronte al resto al momento che questo infatti è ormai chiaro cerchiamo di ricordare le precedenti divisioni per specie quali in particolare abbiamo distinto due specie dell'arte della raffigurazione quella delle immagini e quella delle apparenze sì e abbiamo detto che eravamo in dubbio in quale delle due avremmo messo il sofista era così e mentre avevamo questo dubbio si è riversata addosso un'oscurità ancora più grande quando ci è apparso quel discorso che a noi tutti obiettava che immagine raffigurazione apparente non sono proprio nulla per il fatto che il falso non è mai in nessun luogo e in nessun modo è vero ciò che dici ed ora poiché è risultato evidente che esistono sia il discorso falso sia l'opinione falsa è possibile che siano imitazioni degli enti e che ci sia in base a questa disposizione un'arte dell'inganno è possibile e che il sofista fosse una di queste due cose era ciò su cui ci siamo trovati d'accordo nei discorsi precedenti sì ebbene cerchiamo di nuovo dividendo in due il genere che abbiamo davanti di procedere seguendo sempre la parte destra del genere diviso attenendoci a ciò che ha comunione con il sofista finché dopo aver eliminati tutti i suoi caratteri comuni ed aver lasciato la natura che gli è propria l'avremo dimostrata soprattutto a noi stessi e poi anche a coloro che sono per natura più vicini al genere della ricerca di questo tipo giusto non abbiamo incominciato allora col suddividere l'arte in produttiva e acquisitiva sì e il sofista ci si mostrava nell'arte della cazza nella lotta nell'arte del commercio estero in determinate specie di questo tipo dell'arte acquisitiva certo ora poiché l'arte dell'imitazione lo abbrazza per intero è chiaro che va suddivisa per prima da stessa arte produttiva già che l'arte dell'imitazione è in certo modo una specie di produzione di raffigurazioni però diciamo ma non di ciascuna delle stesse cose reali non è vero assolutamente sì in primo luogo poniamo due parti dell'arte produttiva quali quella divina e quella umana non ho ancora capito l'arte produttiva se ricordiamo le cose dette all'inizio dicevamo che ogni potenza che diventi causa per le cose che ancora non erano che poi si producono se lo ricordiamo orbene tutti i viventi mortali e tutte le piante che sopra la terra nascono da semi e da radici e tutti i corpi inanimati che si costituiscono dentro la terra fusibili e non fusibili diremo che successivamente nascono mentre prima non erano ad opera di qualcun altro che non sia un dio oppure accettando la convinzione e l'affermazione dei più quale che la natura li generi per opera di qualche causa è spontanea e che li fa nascere senza un'intelligenza oppure per opera di una ragione e di una scienza divina che deriva da un dio io probabilmente per la mia età molte volte mi sono posto dall'una e dall'altra opinione ma ora mentre ti guardo in faccia e supponendo che tu pensi che quelle cose si producano ad opera di un dio anch'io condivido questa opinione bene teteto se noi ti giudicassimo di quelli che poi col tempo cambiano opinione cercheremmo ora per mezzo di ragionamenti con persuasioni costruttive di metterti d'accordo con noi dal momento però che capisco bene la tua natura la quale anche senza i nostri ragionamenti procede da sola a quelle conclusioni verso le quali tu ora fermi di essere trecinato lascerò perdere perché sarebbe tempo sprecato ma porrò che quelle cose che si dicono essere per natura sono prodotte da un'arte divina mentre quelle che sono costituite da opera degli uomini sono prodotte da arte umana e che secondo questo ragionamento ci sono due generi dell'arte produttiva quello umano e quello divino giusto allora taglia di nuovo in due ciascuna di queste parti come come prima è tagliato l'intera arte produttiva nel senso della larghezza ora tagliala di nuovo nel senso della lunghezza diciamola per tagliata così le due parti diventano quattro in tutto due rispetto a noi umane e due rispetto agli dèi divine sì ora di nuovo dalle parti divise nell'altro senso una per ciascuna delle due sezioni è produttrice di cose reali e le due rimanenti potrebbero senz'altro direi essere chiamate produttrici di raffigurazioni anche in questo senso dunque l'arte produttiva viene suddivisa di nuovo in due dimmi come risultano di nuovo l'una e l'altra noi gli altri viventi e gli elementi da cui derivano le cose che si generano fuoco e acqua e i loro fratelli sappiamo che sono tutte creature di un dio tutte e ciascuna prodotte da lui non è così è così a ciascuna di queste cose si accompagnano delle raffigurazioni anche queste generate da un artificio divino ma che in sé per sé non esistono quali le apparizioni nei sogni e tutte quelle che si dicono spontanee durante il giorno per esempio un'ombra che si produce quando nel fuoco viene a trovarci oscurità e quando una luce doppia una propria e un altrui converge in un un unico punto sopra superfici lucide e lisce e produce una forma che dà una sensazione contraria a quella della visione prima abituale due dunque sono le opere della produzione divina la cosa reale e la raffigurazione che ciascuna cosa tiene dietro e la nostra arte non diremo forse che essa produce una casa con l'arte delle costruzioni è un'altra casa mediante la pittura come un sogno prodotto dall'uomo per coloro che sono svegli certo dunque anche gli altri prodotti della nostra azione produttiva sono di due tipi secondo i due dell'esempio cioè diciamo la cosa in sé da una parte e la sua raffigurazione dall'altra ora ho capito meglio e pongo in duplice forma due specie dell'arte produttiva una divina e una umana secondo una divisione secondo l'altra invece la generazione di cose in sé per sé da una parte e la generazione di copie ad esse simili dall'altra ebbene rammentiamoci che dell'arte di comporre raffigurazioni ci doveva essere da una parte l'arte delle immagini e dall'altra quella delle apparenze qualora il falso risultasse nella realtà un ente falso cioè per sua natura uno degli enti era così infatti non è dunque risultato evidente e perciò non li conteremo ora incontestabilmente come due specie sì allora distinguiamo di nuovo in due la specie delle apparenze come quella dell'apparenza prodotta per mezzo di strumenti e quella che si ha quando il produttore dell'apparenza offre se stesso come strumento come dici quando io credo servendosi del proprio corpo lo fa apparire simile alla tua figura oppure fa con la propria voce apparire la tua questa specie dell'arte dell'apparenza si chiama se non vado errando imitazione sì chiamiamo allora mimetica questa parte e teniamocela per noi l'altra nel suo complesso lasciamola perdere abbandonandoci alla viltà e diamo ad altri l'incarico di raccoglierla in unità e di attribuirle una denominazione conveniente consideriamo messa da parte l'una e abbandoniamo l'altra ma anche questa è giusto considerarla ancora duplice guarda bene perché parla di quelli che imitano alcuni lo fanno conoscendo ciò che imitano altri invece senza conoscerlo ebbene quale distinzione potremmo porre più grande di quella tra ignoranza e conoscenza nessuna ciò che è stato detto poco fa non era imitazione fatta da uomini che sanno infatti uno può imitarti solo se conosce te e la tua figura come no ma qual è la figura della giustizia e in generale della virtù nel suo complesso non è forse vero che pur non conoscendola molti fanno grandi ardenti sforzi per far apparire come in loro presente ciò che a loro sembra virtù imitandola più che possono nelle azioni e nei discorsi certo proprio molti dunque riusciranno forse tutti a sembrare giusti pur non essendolo affatto o è vero tutto il contrario tutto il contrario credo che si debba dire questo imitatore diverso dall'altro quello che non conosce diverso da quello che conosce sì dove allora potremmo prendere un nome che si addica a ciascuno dei due o è chiaro che è un'impresa ardua perché come pare c'era nei nostri predecessori un'antica e dissenata pigrizia a suddividere i generi in specie sicché nessuno sia sforzato di procedere alla suddivisione perciò è inevitabile che non si abbia una grande abbondanza di nomi tuttavia benché sia troppo audace dirlo per riconoscerle chiamiamo pure imitazione in base ad opinione limitazione accompagnata da opinione e invece opinione dotta quella che accompagna la scienza sia dobbiamo valersi allora di una sola delle due perché il sofista non si trovava tra coloro che sanno ma tra coloro che imitano appunto senza dubbio allora limitatore in base ad opinione esaminiamolo come un pezzo di ferro per vedere se è o se ha ancora qualche inclinatura vediamo ebbene ce l'ha è molto notevole uno di loro è un ingenuo che crede di sapere ciò di cui ha solo un'opinione la figura dell'altro invece per la sua pratica nei discorsi ha molto sospetto e molta paura di ignorare quello che di fronte agli altri vuol far la figura di sapere è certo dunque che esiste il genere di ciascuno dei due di cui parli non porremo dunque il primo come imitatore semplice e il secondo come imitatore che simula almeno pare e di nuovo di questo diciamo che è un genere solo oppure due vedi tu sto guardando e a me se ne presentano due scorgo l'uno che in pubblico o con discorsi lunghi è capace di simulare di fronte alle masse e l'altro che privatamente e con discorsi concisi costringe l'interlocutore a contraddire se medesimo è giustissimo ciò che dici con chi dunque identificheremo quello che fa discorsi più lunghi col politico o col credo poiché l'abbiamo posto come uno che non sa ma essendo imitatore del sapiente è chiaro che prenderà un nome simile e ormai direi ho capito che è proprio a lui che bisogna attribuire il nome di vero e proprio sofista ed ora come prima non chiuderemo il suo nome come una catena riallacciando nella fine con l'inizio certo ebbene essa sarà limitare l'arte che produce contraddizioni del genere che produce apparenze sulla base della capacità di produrre immagini sezione non divina ma umana dell'attività produttiva cioè quella parte che fa meraviglie nei discorsi chi dirà che di questa stirpe di questo sangue è il vero sofista dirà come sembra la cosa più vera senza dubbio fine